ieri sera ho guardato un film allucinante era una diretta di olivero toscani fa le dirette su instagram e sono un viaggio perché ci sono due apre la telecamera caso alle persone e c'è una che gli ha chiesto una raccomandazione fa olivero solo tu mi puoi aiutare non mi prendono a fare le fotografie alla mondiali di sci di cortina e lui che poi poverino c'è dopo vi spiego perché ho iniziato di una fotografa aspirante aspirante e lui olivero io ti voglio bene sei amico mio poi vi spiego perché non vede bene perché chi sei tu mi stai chiedendo una raccomandazione per caso hai sbagliato persona di solito che mi chiede le raccomandazioni poi viene cancellato dalla mia dalla mia agenda vergognati ecco fotografa tu non sei fotografi fotografi non hanno bisogno di raccomandazioni se non ti danno permesso vai dai fallo lo stesso boom la buddha ha buttato giù la connessione però tra le altre cose che ha detto ha detto una frase che secondo me olivero l'ha buttata giù pesante dice questa ragazza che gli chiedeva appunto una raccomandazione per fare questo evento gli dice perché io sono appassionato di fotografia li fa passione a fotografia ma non serve essere appassionato di fotografia la fotografia un mezzo non non devi se no è un mezzo per comunicare e la macchina fotografica lasciala stare non diventa una masturbazione della macchina fotografica devi usarla come mezzo per comunicare cosa ne pensate noi abbiamo avuto modo di scontrare di incontrarlo e scontrarci e poi le dinamiche sono sempre le stesse con lui comunque perché è pronto a massacrare sempre e comunque guarda ti racconto questo noi abbiamo fatto un ritratto a lui in occasione di book city di anni fa era uno dei personaggi che passavano nel nostro set a cui dovevamo fare un ritratto noi abbiamo iniziato a scattare fatto un po di foto è pausa un attimo perché volevamo controllare bene sul sul computer che tutto fosse a posto lui si era allontanato una no no si è allontanato un attimo e al che io vado noi siamo pronti a ricominciare vado da lui gli dico oliviero vieni che ti facciamo ancora qualche scatto non l'avessi mai detto uno scatto cos'è uno scatto uno scatto non esistono gli scatti voi fate fotografie non sono scatti va bene dai vieni per favore mezz'ora di pippone assurdo no vabbè ma è così è personaggio secondo me è tanto personaggio perché poi secondo me nell'intimità non è così c'è ora un picazzo a prescini esatto io penso sai perché ho parlato di lui perché pochi metri da qui c'è l'unista bocconi dalla quale straordinariamente sono uscito io si capisce perché è talmente ero allergico alla l'istituzione che comunque ringrazio perché mi ha insegnato tante cose però sai da giovani che ho detto almeno la tesi voglio fare una roba che non c'entra niente con la boccone roba anzi antibocconiana no e allora ho chiamato olivero toscani gli ho scritto una volta proprio c'erano non ce ne esistevano i social questo mi fa capire anche la mia vecchiaia c'era il sito olivero toscani punto it mando una mail di olivero voglio fare una mail una una tesi sulle tue pubblicità non ne hanno ancora fatta nessuno qui alla bocconi numero di telefono di casa perché non c'erano forse neanche il cellulare o forse sì c'erano quelli grossi sì quello con le macchine oh la mando pomeriggio la sera ero ancora con i miei genitori abitavo con la pastina così che mangiavo suona il cellulare olivero toscani cos'è che vuole la boccone da me perché lui ha scritto libri 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 no libri libri no però tante pagine citando sempre io sono l'anti boccone il business rovina tutto sai la sua retorica solita no e poi però è stato gentilissimo cioè innanzitutto ha risposto subito mi ha dato disponibilità per fare un'intervista lunga anche di mezza giornata non si è dedicato completamente sono mi siano trovati poi in uno studio qui a milano ed è stato di una disponibilità incredibile e vabbè anch'io c'è un piccolo aneddoto c'aveva in mano se quelle robe tipo quei campioni dei colori pantoni non so cosa stesse facendo sfogliava mentre li faceva domande poi a metà intervista mi fa lo vedi questo giallo la mia porsche di questo colore e poi mi ha raccontato che lui era pochi giorni prima era andato dentro il traforo del san gottardo e c'è stato quell'incendio in cui purtroppo ci furono anche parecchie vittime e lui riuscì a tornare indietro beh era rimasto invischiato lì me la ricordo questa cosa c'è da dire una cosa che i fotografi di quella generazione comunque hanno vita hanno vissuto una non che sia vecchio però sono proprio i dieci anni prima che arrivassimo noi nel panorama fotografico e i fotografi che arrivavano comunque a fare qualcosa c'è erano veramente degli dei nel senso che il mondo pubblicitario editoriale della moda della moda era gonfio veramente sia di soldi che di opportunità soprattutto perché guarda devo dirti la verità io non ho mai apprezzato molto la fotografia di toscani proprio come fotografia ho sempre apprezzato un sacco il suo lato pubblicitario perché è vero come tutti i mestieri poi non basta solamente essere un professionista in quello che fai devi essere anche un manager di quello che fai e ci sono poche persone che in realtà riescono a unire le due cose e lui sicuramente è una cosa di questa mentre ho visto su sky poi un programma che lo riguardava e sono andato poi a studiarlo un po più a fondo e il mio giudizio è cambiato totalmente perché in realtà lui prima di iniziare tutto il percorso con benetton e per cui poi tutta la fase che tutti conoscono in realtà era uno che era andato a new york e aveva spaccato ma perché faceva veramente delle foto della madonna per cui di base l'approccio è super figo mi attirerò le ire di molti però cosa che adesso non fa più no è vero cioè lui si è trasformato in un grande la sua collaborazione con benetton e tutto quello che ha fatto dopo si è trasformato in un grandissimo comunicatore ma dal punto di vista fotografico si uno sgarbi di sinistra adesso mi tirerà dietro però che poi lui non è di sinistra di fatti e poi sempre è stato a guarda questo pannelliano perché poi comunque ci è capitato di avere a che fare con lui perché poi insomma il mondo della fotografia poi a un certo livello è abbastanza stretto non è che ci siano tante persone ed è veramente incredibile come ormai faccia conto il personaggio che è molto più forte in realtà della persona e di quello che comunicava con le sue immagini self branding anteliteram assolutamente e quindi vabbè però no voi invece se per carità di carità self branding invece fino a pochi anni cioè vedevo l'intervista self cosa scusa che voi non si sapeva come eravate un po come i daft punk sì esatto poi i pink floyd dei primi anni sì non c'era mai nel 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 booklet cioè voi avete lavorato low profile understatement poi a un certo punto invece basta no è sempre sta diciamo che diciamo che effettivamente le cose sono cambiate io per come sono fatto ho sempre spinto nella direzione di prima cioè non non rimangono max ed aglas il nome che io e le foto le fanno degli altri che tra l'altro nome che peraltro a scrivere sbagliano tutti e non c'è verso una lotta infinita e e poi però effettivamente un po parlando con i nostri agenti che se poi sei tempi sono cambiati bisogna farsi vedere è un po controvoglia abbiamo iniziato a ad andare in quella direzione io sono sempre molto resti io però sai per chi ci crede veramente in realtà tu parli attraverso le immagini cioè di far vedere con certe credo fondamentalmente non è un lusso non è rimasto un lusso quello di riuscire a far parlare i propri prodotti al posto nostro ve lo dico perché qualche puntata fa vi c'era una ragazza la valeria che si occupa di food selvaggio forging foraging che dice io lo faccio contro voglia ma lo devo fare so che se funzionale al mio business è una una volta mi ricordo anche un post di asia argento che diceva self promotion is not a crime anymore cioè nel senso oramai chiunque non so come dire da ravioli rana in poi non so come dire sì cioè devono dobbiamo raccontarci infatti noi modestamente nei nostri corsi di business lo insegniamo alle persone perché fa la differenza li vedi i risultati cioè le persone oramai si non vuoi scriverci sì anche perché noi risultati non li vediamo ma perché voi se voi avete la fortuna di aver creato un brand fortuna bravura tenacia per noi che siamo mistici diciamo la fortuna non è mai fortuna però avete creato un brand pre social che aveva un portato talmente spesso dicendo loro sono i ritrattisti dei vip boom non torni più indietro non so come dire quindi quasi vivete di questo lusso mentre quelli nuovi no cioè quelli nuovi partono e sanno che devono quasi far parlare più il personaggio delle loro foto comunque pure troppo in alcuni casi ma in realtà è vero oggi mi aveva le ire di chi ma siamo qua a posto il bazar atomico serve per far scoppiare noi siamo in armonia no ma in realtà il problema nasce proprio da lì guarda nasce proprio dal concetto di che cosa te ne frega cosa fa lui nella vita cosa faccio nella vita cioè guardi la mia foto che emoziona appunto il problema qual è che oggi e 15 inizio io a tirarmi le ire i social sono bombardati da immagini che fanno cagare le istituzioni no perché la cultura fotografica una cosa importante che avrebbe insegnata veramente a scuola perché ormai è stato sdoganato l'immagine strasdoganata e le persone sono attratte dal cioè la silhouette dietro un tramonto adesso per banalizzare il concetto però arriveranno a essere stufi di vedere tramonti gattini di e no e quindi la fotografia una cosa seria di base no cioè l'immagine a dei linguaggi a a una cultura che deriva dal passato e tutto quanto e oggi le nuove generazioni purtroppo tendono a fare delle immagini un qualcosa di attrattivo ma senza contenuto ok e quindi il livello in questo momento è veramente basso ma non è basso di per sé perché poi c'è gente che fa roba figa e il problema è chi usufruisce di quelle immagini perché la massa non essendo in grado di capire alfabetizzata bravissimo l'esempio che facciamo sempre quello come all'inizio quando hanno sdoganato nelle scuole il fatto di imparare a scrivere a leggere non è che tutti erano dei poeti perché mettevano tre frasi lì a posto banco adesso esatti peraltro però però perlomeno cosa è successo che la massa ha imparato a distinguere uno quando legge dice però cazzo questo parla bene parla bene scrive bene eccetera eccetera sull'immagine non c'è a scuola non si insegna la cultura dell'immagine assurdo però non si insegna la cultura e pensiamo e pensa che pensa che come dici tu è l'unico linguaggio rimasto l'unico perché non legge nessuno citiamo io ho visto che siamo dentro nella pandemia d'acqua si scherzava a capodanno fanno ogni anno blob che fa un il blob di tutto l'anno che dura tipo due ore tre ore e a capodanno era a casa a fare un cazzo come tutti ha detto mi sparo blog non l'ho mai visto vita mia ed era affascinante vedere i primi le prime settimane della pandemia tutti che scherzano andremo tutti in giro con questa qua si si ma guarda si si ma chissà roba e poi tra oppure c'era lady gaga dall'america che diceva i'm sorry for you italians i'm with you stay strong poi dopo due settimane è arrivata peggio lei poi ci fu la foto dei camion pieni di bare di bergamo basta da lì è cambiato tutto un'immagine ha cambiato la percezione della realtà il problema è quello che tu puoi far cultura attraverso l'immagine c'è bisogno di insegnare ai ragazzi quali sono i canoni noi insegniamo l'istituto e spesso anche ragazzi che sono già magari al quarto anno di fotografia cioè non il ragazzino c'è gente che vuole diventare fotografo oggi la gente non è abituata a capire perché un immagine funzionano facci caso il commento al 99,9 per cento delle persone mi piace non mi piace che è un puramente gusto estetico e qui che entra al fatto di avere l'immagine d'effetto wow che piglia 140 mila like ma di per sé intrinsecamente quell'immagine fa cagare cioè non non ha nessun significato ma perché non racconta nulla e poi sempre il solito discorso su poi è stato detto ridetto stradetto cioè fondamentalmente la fotografia e comunicazione se non ti comunica non ha nessun valore si può essere un bel tramonto come diceva lui prima ma alla fine rimane fine a se stessa e fine ai 140 mila like basta ma c'è bisogno questa comunicazione così profonda ma guarda che non è ma non è neanche così profonda perché tu facci caso una delle fotografie più più immediate in termini di racconto è quella del foto reportage per esempio noi ne conosciamo diversi di colleghi che lavorano in quel campo ed effettivamente c'è la loro è una fotografia di comunicazione poi è ovvio che come tutta la fotografia è sempre è filtrata dalla propria visione però ti stanno raccontando qualche cosa ok e questo però deve valere anche nel momento in cui tu fai un ritratto anche nel momento in cui tu fai foto di food cioè tu devi raccontare qualcosa ma il messaggio non è non per forza deve essere nascosto profondo che devi andare a cercare può anche essere immediato poi per carità per carità il lato estetico è fondamentale noi ne abbiamo fatto del lato estetico parte della nostra permettimi firma nel senso che anche per le nostre origini dal punto di vista stilistico noi abbiamo iniziato con le foto wow che fondamentalmente non non c'era nient'altro dietro non avevano nessun tipo di nessun tipo di contenuto però sono state la nostra fortuna quindi beh glamour in sé c'è c'è glamour a in un certo senso racconta un presente esagerato come si fa a raccontare scusate l'estrema ignoranza c'è una fotografia allora raccontare qualcosa che il racconto alla sequenza c'è del tempo un video racconta la foto in una frazione dato però ti faccio prendi un momento un istante però riesce a raccontare ti faccio un esempio dopo te ne faccio un video prendiamo quello di cui stavamo parlando prima toscani ok toscani partito con delle immagini belle danno uno stile ha iniziato poi a raccontare la società e secondo me il grande passo suo qual è stato che lui ha portato la comunicazione quotidiana a favore di un grande brand facendo pubblicità ok quindi se vi ricordate le sue immagini del della suora e del prete che si baciavano quando si parlava della pedofilia eccetera eccetera fino ad arrivare addirittura a prendere forse un'immagine non sua che era il barcone degli immigrati e ci hanno fatto una campagna pubblicitaria ok quell'immagine racconta un periodo storico presentativa di un perché ha una forza nel l'arte in generale si basa sul concetto che chi a livello contemporaneo a qualcosa da raccontare la propria vita ok riesce a farlo in una chiave diversa dal solito ok gli da quel senso il vero artista è colui che riesce a guardare la realtà e trasformarla col suo mezzo che sia fotografo pittore scultore eccetera eccetera per rimandarla poi ok allora io quando guardo quelle immagini non ci vedo la contemporaneità bravissimo non ci vedo la contemporaneità di quello che stiamo vivendo vedo solo una serie di immagini cliccate più o meno carine più o meno decenti ma che non mi stanno raccontando il mio tempo da nessun punto di vista va dai max si no volevo sempre rispondendoti ti faccio un altro esempio perché mi è capitato di recente non so se l'avete visto su netflix c'è un documentario molto ben fatto sulla tragedia del challenger dura penso un'ora e passa una cosa del genere e racconta insomma di quello che è successo del perché è successo tu ti spari quest'ora e passa di film film documentario e a un certo punto durante le fasi finali che sono ovviamente nel momento dell'esplosione della navicella e tutto il resto sparano una serie di 5 6 7 foto in bianco e nero fatte evidentemente da un fotografo che era lì io ti posso garantire che ognuna di quelle foto lì vale tutto il documentario cioè raccontano di più di tutto quello che è stato detto in un momento guarda io quando abbiamo un ricordo non è mai un movimento è quasi sempre una fotografia l'arma della comunicazione più stretta più incisiva più l'immagine è laiku dei racconti la fotografia allora mi viene in mente non so se avete letto un libro di Roland Barthes la camera la camera oscura la camera chiara la camera chiara e lui proprio definisce proprio questa cosa qua come il punctum perché lui parla di punctum e studium lo studium è quella foto che ti info cioè che ti dà delle informazioni il punto è quel tilt quella cosa che con un simbolo con un segnale tipo porta altrove sono assolutamente d'accordo provate a pensare facciamo un gioco è ognuno pensi a un'immagine storica che rappresenti un momento storico ok il muro di berlino muro di berlino ma è morto maradona è morto maradona tempo un secondo tutti avevano la stessa foto di lui di spalle che andava via foto non era un video in cina il tipo sulla piazza a tenere a mente cioè sono immagini che raccontano un momento di storia beh ma per la per la religione devi sapere però la storia se non ti racconti cioè è un paradossi hai ragione da questo punto di vista hai ragione se non sai che cosa che cosa rappresenta non capisci la potenza se andiamo da un alieno ma questo è il motivo per il quale per esempio noi ci scontriamo sempre perché io sono un grandissimo fautore della didascalia perché la didascalia è anch'io anch'io è veramente fondamentale perché tu pensi che la gente sia ignorante lui no lui è ancora ottimista come tra me e lui ci sono la compensazione ignorante vabbè cioè comunque ci sono religioni come la rotordossa che venerano delle immagini cioè proprio sono sacre immagini sacre che hanno un potere cristiano cioè comunque qualsiasi qualsiasi regime non potrebbe esistere senza un'iconografia delle immagini delle foto e ci sono quelle che che le vietano le immagini certo esatto cioè tu guarda non so i cose come si chiamano i capi di stato cinesi avevano proprio sempre la foto anche adesso c'è la foto del presidente della repubblica cioè la foto è comunque ha un che di sacro che il film non ha cioè la sacralità dell'immagine che la rende così potente ma perché il video di suo simula la realtà quindi è più vicino al qua la foto in quell'immobilità è proprio cioè fa esplodere il là l'altrove devi lavorarci tu riempire appunto lo crei tu il movimento se vuoi a partire da perché ti stimola il cervello a ricreare che cosa sta succedendo prima e dopo questo è il motivo per il quale cioè come hai detto tu cioè tu parti da quella cosa lì ma tu devi ovviamente avere già un bagaglio di conoscenza nel senso come hai detto tu prima cioè la foto è ovvio che deve essere contestualizzata di sapere dove è stata fatta e che cosa è successo e questo è il motivo ricollegandosi a quello che diceva lui per il quale la cultura dell'immagine è fondamentale perché nel momento in cui tu sai che cosa è stato fatto prima non so poi prendiamo degli esempi concreti cioè mi veniva in mente la foto dalla fine della seconda guerra mondiale il marinaio che bacia l'infermiera se uno non sa che c'era stata la seconda guerra mondiale la fotografia non ammette l'ignoranza certo no no è così però secondo me da lì bisogna passare un altro aspetto molto importante che fino a qualche anno fa la fotografia quella seria poi veniva stampata e questo è già un grande differenza perché oggi purtroppo con i social c'è una grandissima una grandissima produzione di immagini che poi vengono perse proprio tipo ricordo foto delle vacanze ne siamo vittime tutti no no ma no ma non è una critica anche noi nel senso che anche noi l'altro giorno abbiamo fatto una stampa quanto tempo era che non facciamo una stampa di una nostra foto? adesso sta stampa grande era 70 cento ma che figata hai rivisto tutta la tua vita che bello però che bello no ma perché poi rimane tra 50 anni quella roba lì e ancora quella roba lì ma infatti diventa un documento cioè anche nel mondo della fotografia ovviamente dico una banalità c'è un pre social post social perché questa bulimia dell'immagine ha creato la necessità di un linguaggio diverso non lo so perché mentre parlavamo prima è venuto in mente anche c'è un account Instagram non so se lo vuoi trovare che fa vedere tutti i cliché nelle immagini tipo il fidanzato che dà la mano alla fidanzata quello nella tenda che si vedono i piedi oppure nel furgoncino Westfalia che è fuori così oppure il tipo sul fiordo in Norvegia che fa così le foto che fanno tutti esatto lui ti fa vedere guarda quanti ce n'è c'è una è geniale esatto è geniale sta repeater faccio anche un'altra considerazione che vado un po' a cercare qual è il motivo di cui stavo pensando in questi giorni perché stiamo progettando una mostra e quindi ci siamo messi un attimo lì a ripercorre virtuale la mostra no assolutamente no no prima o poi no ma concettualmente no e ripercorrendo un po' il nostro percorso la cultura pensando la cultura com'è la storia che una volta si arrivava a essere fotografi attraverso la scelta di persone che avevano vissuto la fotografia nel nostro caso lavorando per le riviste le foto editor che erano persone veramente di uno spessore perché avranno visto miliardi di foto ma prima ancora ma prima ancora di quello anche facendo gli assistenti sì sì certo assolutamente nel senso che crescevi crescevi e piano piano la cultura entrava a far parte di te il cosiddetto apprendistato che adesso non esiste più quasi ma però cosa succedeva che tu guardavi l'unico modo per guardare le immagini erano le mostre per cui diciamo stabilite dai curatori dai galleristi che comunque avevano una cultura rispetto a quella cosa quindi esponevano persone che ne valevano le riviste per cui fotografi che venivano scelti da persone competenti e tutto quanto oggi cosa è successo il grande appiattimento economico ha portato da una parte nei ruoli di scelta perché fino a poco tempo fa bastava che pigliasse una foto sui cioè per curare i social di un'azienda andavo su suista su google sceglievo 45 foto le postavo eccetera eccetera quindi chi è che deve esserci così bravo e quindi si prendevano ragazzini per carità ma anche con la voglia il gusto e tutto quanto però non avevano proprio l'esperienza non hanno cioè oggi nella posizione di chi sceglie le immagini ci sono persone troppo giovani magari fighissime cioè il mio non è una questione di perché c'è capitato anche di conoscere persone giovani veramente valide ma veramente valide dal punto di vista culturale no in posizioni di scelta di fotografi tutto quanto però non hanno l'esperienza perché deriva da una maturazione di divisione proprio temporali di miliardi e miliardi e miliardi di foto ok no ma certo come quando uno vuole fare il sommelier io volevo fare il corso mi ha detto devi assaggiare i vini buoni non ce n'è guarda come faccio a scegliere la scuola di sommelier e guarda quella che ti fa assaggiare i vini più costosi perché è così cioè non so come dire da lì poi scendi l'azienda col carousel che abbiamo cercato di fare cioè che col carousel di instagram che abbiamo cercato di fare quello di oggi quello di oggi funghi allucinogeni funghi allucinogeni perché è uscito un etf che investe un fondo di investimento sui funghi allucinogeni poveri sì perché hanno medicali perché hanno una sono stati legalizzati nello stato in washington o in canada anche e hanno dei ri adesso non riesco a trovare le parole giuste per essere serio però è serissima in realtà la cosa perché lo danno soprattutto ai malati terminali è certo perché vivono un'esperienza psichedelica che li fa percepire l'infinità della loro della nostra essenza e quindi hanno meno paura della morte dopo a cavo minchia e poi anche tanto potere antidepressivo ovviamente e insomma volevi dire che il sottoscritto il copywriter ha fatto una prova di immagini ha detto ah bella figlia giustamente lui è arrivato ha detto guarda abbiamo una grafica che fa quello tutto il giorno poi dice ma dai è già bello così poi l'ha fatto la grafica tra l'altro che abbastanza velocemente effettivamente questo problema c'è l'esperienza questo problema quello tutto il giorno era non era due volte più bello era cento e cento volte quanticamente più bello ma infatti questo problema e noi lo vediamo tanto fra i nostri corsisti dove c'è veramente un gap fortissimo tra chi ha gusto estetico chi non ha gusto estetico oggi per fare impresa per fare business non puoi prescindere dal confezionare bene i tuoi prodotti sui social ma anche la tua comunicazione il tuo storytelling ti smentisco qua ti smentisco perché va di moda il trash cioè va di moda abbiamo sacco di concorrenti che hanno un immaginario visivo totalmente scadente e per le persone a cui puntano loro questo passa quasi come genuino invece no è scadente non è genuino questo è un problema questo è un problema anche nella fotografia comunque perché se non vorrei voglio fare il vecchio trombone però ragazzi c'è si vedono cose acclamate e che francamente li lasciano secondo me è una cagata pazzesca ma per c'è trash e trash c'è quello a cui allude lui enrico è tipo noi abbiamo un concorrente di business chiama frank merenda che è bravo che che fa dei foto ritocchi dove non so appiglia superman e mette la sua faccia c'è proprio oppure prende un suoi fatti bene come foto ritocchi abbastanza sì sono abbastanza semplici è vero sarebbe esteticamente sono visibili sono di trash sono orribili c'è un ripilanti però effettivamente per il suo target fanno presa e questa cosa si vede non so il movimento 5 stelle è andato al potere con un immaginario proprio del popolo c'è che se tu confezioni troppo bene una cosa sei come dice come dice salvini no dice sei radical chic ecco ma infatti secondo me bisogna fare una distinzione che è giusta perché la verità tra virgolette arrivando noi anche da da una generazione per cui si diceva cazzo se guardi le donne certo sono tutte le modelle quindi le donne poi normali si sentono tutte delle casalinghe frustrate no ma questo è lui ma disegnato se tu metti eccesso anche dei foto ritocchi sì sì facciamo un po di pubblicità a francesco il nostro vicino di casa il problema secondo me nasce dal fatto dove ci deve essere un confine tra la verità che è la mia e quindi è giusto che sia naturale che non sia artefatta eccetera eccetera e poi quella che è la cultura ah ok c'è sono due mondi veramente differenti no sì e il gusto estetico ragazzi però non lo so la butto giù io ho vissuto all'estero sei anni sei anni in belgio lui ha vissuto a londra quello gira il mondo da quanti anni dal 2012 e esteticamente ed esteticamente c'è i paesi nordici sono messi meglio cioè c'è una cura maggiore io lo dico perché tanto abbiamo tanti corsisti che si occupano di prodotti naturali legati magari alla natura la naturali legati alla natura legati sia la non so il movimento olistico dove sono tutti veramente bravi a fare quello che fanno la fattoria con la pecorella sei formaggio quello giusto poi vedi social e non compreresti niente perché non ti fa venire voglia non sono capaci di comunicare in maniera cool i loro prodotti mentre invece non so vai in california cazzo c'è la per l'ultimo scappato di casa fa delle foto fighissime e io mi ritrovo a comprare su instagram dei prodotti poi mentre sto comprando ma perché sto comprando una crema se sono un po mi piacciono le creme no le ho comprate anch'io ci sono cascato anch'io prodotto ti c'è con le erbe del sussex no dici ma qualche tre ma perché non ma io poi google ma perché non c'è uno in val di intervi tu che prima di iniziare mi dice chissà quante erbe potenti con cui fare erbe con cui fare creme ci sono però me le compro dal sussex perché sono fighi a fare pubblicità non so come dire c'è ma non ha infatti è assolutamente vero e sono dei professionisti ed è giusto che sia così per me c'è una netta distinzione tra il tipo che posso giudicarti se mi piace o no se sei naturale o no rispetto a quello che racconti e tutto quanto e poi però a me piacerebbe che quando vado a vedere una mostra ci siano delle foto culturalmente elevate non che chiunque faccia mostre a cazzo a destra sinistra cioè è proprio ormai le mostre adesso non le fa più nessuno è come come il mondo dell'arte io ho un amico che è collezionista d'arte iniziato da pochi anni però insomma mi insegna un po non è no non è deo non è deodato e lui ha delle polaroid che di warhol eccetera che c'è costano un botto cioè non c'è nessuno attualmente che fa ancora queste cose con le polaroid no beh l'italiano più figo che fa polaroid e maurizzo gallimberti ho visto oggi pomeriggio l'intervista per prepararmi con voi non lo conoscevo anzi vi ringrazio per lui è un grandissimo super grandissimo ha fatto fa veramente la storia dal punto di vista di ritratto pola è un genio assoluto e poi però fotografia d'arte cioè poi la ridende come opera d'arte ma infatti dovrebbe essere così non ci sono più i magnati oggi che ti sovvenzionano perché purtroppo altrimenti sarebbe veramente difficile proprio l'altro giorno abbiamo conosciuto c'è sconosciuto siamo andati in studio da un amico pittore invece che è riuscito ma perché probabilmente a un background che nasce da un'agenzia di pubblicità perché non creativo a fare questa roba qua cioè si è tolto da tutte le gallerie e ha iniziato a investire sui collezionisti e ha contatti diretti con i collezionisti per cui inizia a dire io dedico la mia vita so già che faccio 20 opere l'anno queste opere sono già commissionate wow questo è gallimberti è quasi capisce che c'è dell'arte ma noi abbiamo un personaggio tra di noi che è un vero artista e faccio coming out con loro facciamo è il momento del canale visto che avete parlato visto no lo connettiamo al discorso giudicare certamente è cambiato il modo di comunicare anche la fotografia d'arte e non si sa come monetizzarla come entrare in certi circuiti qui abbiamo una persona che beh dopo gli faccio vedere le mie foto e mi dicono se si può fare una mostra con le mie foto no però intanto facciamo la carambata c'è una carambata vai vai mandagli mandagli lo schermo lo schermo voi direte ma ma sta foto ma perché sta foto la state vedendo no abbiamo 8 mila microfoni però però non si la conoscete ma come fa ad avere tutti i livelli come faccio ad averla a livelli questa foto io perché siamo entrati nel vostro hard disk perché siamo degli altri posso posso togliere un livello alla vostra fai vedere il conto in banco che gra che grandi bello ritoccata io questa foto ma vero sì a wired ma dai ci siamo incontrati un paio di volte stiamo parlando del 2012 quindi capisco benissimo che non mi ricordo neanche io vi avrei riconosciuti se vi avessi usi per strada che grande io ce le ho tutte ce le ho tutte c'è anche quella del degli angel investor il tizio che stava nel capo ma che questa me ne fai una anche a me ma lavoravi con david lavoravo con david wired era uno dei miei clienti preferiti perché ogni volta l'amore diversi anche dei nostri ma scusami ma no perché io mi ricordo che queste foto ma tu facevi 3d adesso no il 3d ve l'ha fatto qualcun altro proprio voi mi avete mandato tutti i pezzi e io ho assemblato ok no io facevo post fino a due anni fa ok grandi e adesso cosa fai adesso boh adesso sono un defibrillatore vitturale no adesso ma giuro non me l'hai investito ma certamente cioè che splendida notizia e no beh intanto sono diventato un imprenditore picureo ma faccio anche le foto fotografo le donne svestite tendenzialmente fai vedere sì faccio vedere faccio vedere le foto quelle più allora stacca lo schermo no no nel senso le migliori lo possiamo anche le migliori si possono vedere solo dopo perché sono 3d no meglio no però ce ne ho tante allora ieri ho scattato poi per me la fotografia di nudo è quasi terapeutica per le donne perché ho spesso scatto ragazze che non sarebbero mai sognate di farsi fotografare nude e loro poi mi ringraziano perché io gli ho donato l'autostima che non hanno mai avuto no no ma infatti non ti allarga no 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 ma io lo so perché per me è stato lo stesso io ho iniziato a farmi io mi sono appassionato alla fotografia perché fotografavo me stesso il tuo sedere sì il mio sedere e adesso ho smesso adesso ho smesso anche perché ce ne ho già troppe di foto e del del mio culo e devo dire c'è da sì 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 ma il mio culo è sceso adesso allora per per l'età mi per l'età mia è ancora buono però chiaro se vado a vedere le foto che facevo vent'anni fa lo stimolare che ce lo mostra poi ecco questa questa ieri è stato veramente bello fotografare questa ragazza e com'è non è che qua c'è un contrasto un po è molto si contro luce buono solo no allora c'è molto contrasto nelle ombre non si vede nulla è messa apposta perché non si deve vedere su youtube se non ci bandano sì no vabbè l'avevo in realtà l'avevo ottimizzata così la foto mi piace molto l'intensità che è venuta fuori e fatto che non si veda nulla alla fine si intuisce ma non si vede nulla vai vai commenti tecnici vai un'immagine così di per sé ma allora semmai vado in un'altra cartella quello che possiamo chiedere a loro lui ha partito con un progetto che secondo me era interessante lui infatti adesso vuole vedere quelle cioè lui ha girato il mondo per ostelli no sì allora io ho iniziato a fare le foto alle donne tre anni fa in realtà mi trovavo eravamo a bali era finito l'evento che stavamo facendo insieme c'erano rimasti dei giorni liberi io sono andato in spiaggia e ho iniziato a avere questo impulso vedevo delle ragazze dicevo io se adesso non vado da quella e non le chiedo di farsi fotografare stanotte non dormo e ho iniziato a fare questo e allora ragazze normali per la strada di amici adesso si è preso che deve fotografare per forza le modelle come cioè non so per me allora un po e per necessità perché siamo bloccati a milano in un lockdown non è che posso andare in spiaggia e andare a fotografare ragazze random o me ne scappo però non ci sono le ragazze giusto che ti spiaggia non c'è nessuno allora volevo trovare quella delle due sorelle che secondo me è meravigliosa modestamente non cominciato in senso no è perché era meravigliosa era meravigliosa la situazione capito questa foto io sono andato solo a la foto reggia la io l'ho dovuta solo scattare però ecco lui ha vissuto un momento e ci si ricorda di quel momento c'è uno da fuori riesce a percepire due ragazze sulla spia secondo me c'è da distinguere un paio di cose mai penso che il progetto un progetto personale nasce dal come dicevi tu da l'esigenza comunque di esatto andare a investigare prima di tutto dentro se stessi certamente e nel riguardarle poi riconoscere quello che tra virgolette sei andato a cercare in realtà queste immagini di per sé sono molto diverse uno dall'altra e quindi è difficile entrare chiaro cioè è perché appunto io studiato fotografia io e lui ci siamo conosciuti allo ied prima di mille dopo è quindi leggermente però poi le fotografie ho iniziato a farle realmente tre anni fa cioè come se stessi reimparando e se stessi iniziando a capire cosa piace a me ma guarda che è un processo quello che dicevamo prima è proprio un processo interno e per quello che se noi andiamo a riguardare foto facevamo vent'anni fa cioè ci mettiamo a ridere nonostante pensassimo di essere fighi pazzeschi perché è un processo che ha bisogno proprio di un'evoluzione interna culturale rispetto a guardare le immagini cercare di copiarle arrivare a fare veramente quello che vuoi noi diciamo che c'è anche processo evolutivo no ma quello sì però devo dire la verità che oggi forse dopo vent'anni di lavoro di dedizione totale alla fotografia oggi forse ci sentiamo di poter tecnicamente fare quel cazzo che vogliamo cioè rendere una nostra idea immagine ok prima c'erano no prima c'erano tutti dei processi per cui tento di farla bella tento di farla così tento di farla cosa e poi c'era sempre comunque un imprevisto che ti scombussolava un pochino ma se doveste adesso abbiamo riguardato proprio l'altro giorno abbiamo avuto la fortuna durante la carriera con un amico di avere ben harper a disposizione una domenica in uno studio da soli con lui che suonava per farvi capire e ieri ci è capitato di riaprire le foto che gli abbiamo fatto cioè noi abbiamo avuto ben harper un giorno in studio per i cazzi nostri che foto di merda che abbiamo fatto no per dirvi no e pensavamo già di essere dei fotografi e invece no e oggi ci sarebbe una consapevolezza completamente diversa da quella che avevamo allora e quindi è giustissimo il percorso che stai facendo e che fanno tutti in generale nell'andare a indagare quello che mi è quello che voglio suscitare no e poi come dici tu la foto cellulare proprio vai avanti e più capirai che il tuo intervento va a modificare quel momento la nell'idea che tu hai in testa ok per cui è togliersi proprio da dal momento tecnico di faccio la foto selfie o quel che è nell'andare a interpretare la scena che è quello un grande passo e ha parlato di selfie a parte che instagram negli ultimi mesi bar anni a è un po sceso l'importanza delle foto rispetto alle stories no c'è sta sta diventando dominante ci sono anche proprio dati tecnici che non consultiamo c'è oramai la maggior parte delle persone sfoglie alle stories quindi l'immagine anche se nelle stories puoi mettere delle foto però la foto proprio che rimane nel feed è diventata molto meno importante però la gente si fa i selfie anche nelle stories è un'estetica che che ha un senso artistico può avere anche un senso artistico allora artistico credo proprio di sì cioè si riescono a fare delle selfie che hanno un valore ah no scusa sei passato anche io pensavo ci chiedessi qualcosa sulle stories non sul selfie se ci siamo smarcare subito se una persona che fanno selfie selfie siate sinceri no ragazzi c'è il selfie nasce dall'autoritratto l'autoritratto è un'arte come posso dire bella consistente perché per riuscire a fare un autoritratto che funzioni sia dal punto di vista fotografico che che dal punto di vista comunicativo devi essere veramente bravo e il selfie arriva da quello ma è tutta un'altra cosa cioè sostanzialmente tutta un'altra cosa anche perché dal punto di vista stilistico e formale non è nient'altro che il cercare di mostrarsi nel 99.9 per cento dei casi più belli di quello che sia realmente cioè l'obiettivo è quello l'obiettivo del selfie cioè questi robi qua cioè tu usi la camera frontale di default ti piallano la pelle perché devi essere più bello c'è una cosa che è sconvolgente ad un certo punto di vista e quindi ti dico il selfie diciamo che ha delle potenzialità perché se effettivamente sfruttasse la scia di quello che è l'autoritratto avrebbe un suo valore anche artistico per come viene utilizzato oggi la maggior parte di casa è come la foto che si faceva al ristoratore quando arrivava totti e auto incensamento però ecco cioè io mi immagino se io volevo avessi delle velleità artistiche oggi userei instagram cioè pubblicherei le mie foto su instagram certo si fa si fa ma ad esempio che lui prima ti ha parlato di questo artista che abbiamo conosciuto di recente tra l'altro che un signor artista perché è quotato a livello planetario molto bravo e lui comunque nei momenti morti in ogni caso lui è presente su instagram lui sì 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 si mostra su instagram mostra i suoi progressi però le sue foto le mostra sono e non è non è un fotografo un pittore ma su il backstage in la narrazione di sé ma capisco ma il fotografo che ha come output della sua arte la foto non è uno svilirla postata su instagram piuttosto cioè non so come dire il valore glielo dà proprio il fatto che magari per vederla deve andare dentro una mostra ma lo sono chiesto anch'io e torniamo al discorso che abbiamo fatto all'inizio cioè il fatto di dimostrarsi di 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 andare fuori sui benedetti social e far vedere proprio c'è un trade è un trade off cioè nel senso se non mi mostro non mi inculaccio non mi caga nessuno però posso dire una cosa concettualmente secondo me il passaggio diverso è che chi usa veramente i social bene secondo me in realtà fa tutto quel genere di racconto nel mostrare quella che è la tua idea di una visione ok e poi la mia idea di una visione sfocia nel in un'immagine in un'opera d'arte eccetera eccetera per cui io sto raccontando in realtà chi sono e che secondo me invece è un aspetto importantissimo nella generazione dove stiamo andando per cui non conta solo l'immagine che faccio ma conta anche che tipo di persona sono perché devo creare empatia con le persone guarda una bomba è quello la differenza no cioè ma è alla fine si ritorna un po toscani cioè che l'importante è riuscire a essere un artista da una parte e anche un manager di se stessi dall'altra dove le due cose hanno un peso e una naturalezza tale da arrivare e chi non è grado di farlo è fottuto cazzo è il cazzo suono esatto guarda che quando io mi ricordo ancora c'è le discussioni che abbiamo fatto tra di noi quando instagram stava cominciando a esplodere che era venuto fuori io mi ero fatto il mio bel account privato per i fatti miei postavo le mie fotine ed erano fondamentalmente però delle cose veramente immediate cioè Instagram per me Instagram devono essere le foto fatte con il telefono per se vuoi raccontare o comunque condividere una certa situazione un posto un cibo quello che ti pare la famiglia io ci mettevo le foto delle bambine quando erano piccole e per me Instagram era quello io mi ero talmente convinto di questa cosa che ci ho fatto perdere il treno un pochino perché non avete investito sulla parte business no assolutamente anche perché quando abbiamo visto che comunque la gente cominciava a mettere il proprio portfoglio per cui le foto fatte non col telefono ma le foto fatte lavorativamente e quindi i profili cominciavano ad avere dei livelli di qualità cioè ci state dicendo che vi sentite un po' boomer in questo momento no ti stiamo dicendo che ci siamo sempre sentiti dei ciula per questa roba che è un sinonimo a volte esatto perché effettivamente ma infatti lo vedi c'è anche il nostro profilo che si ha seguitissimo adesso siamo tipo 13 mila follower c'è gente che ha iniziato molto prima di noi a fare quello che probabilmente hanno visto un po' più in là di noi di fare quello che andava fatto cioè cosa fanno utilizzano Instagram lo hanno fatto già prima anche perché adesso quando tu apri un profilo Instagram crescere è pressoché impossibile è pressoché impossibile però c'è anche da dire una cosa secondo me che io vedo mio figlio come usa i social oggi e io capisco veramente che sono vecchio proprio concettualmente rispetto a un qualcosa che ha un modo diverso di comunicare secondo me la base parte da quello cioè io vedo mio figlio che comunica proprio comunica ma nel vero senso della parola parla con i suoi amici attraverso Instagram noi non lo facciamo noi per noi è un compito posto quello c'è anche questa storia delle storie delle storie no ma c'è gente che comunque mi viene in mente Fabio Persico cioè fa delle storie che sono dei film hai capito ma perché sono abituati abbiamo parlato di Andy Warhol adesso non voglio fare quello colto però lui faceva i film col montaggio in camera certo e Instagram è quello cioè l'Instagram è quello quando l'ho visto ho detto minchia Andy Warhol esce dalla tomba adesso ma andate a vederli Fabio Persico che non è uno ma porca puttana cioè fa delle stories che sono dei potrebbero essere dei pezzi del telegiornale o dei con il montaggio delle storielle ma chi è lui è un fotografo è un pazzo scatenato no no lui questa cosa ci sta lavorando da tanto l'ho conosciuto diversi anni fa avevamo fatto una cosa insieme e si è specializzato in questa cosa adesso lui allora lavorava nella comunicazione credo che sia un fotografo un grafico designer qui si definisce lo-fi filmmaker esatto quindi fa le stories guardatevi una sua storia guardiamola è veramente però adesso questa roba gli sta rendendo perché comunque mi sembra di aver capito che fa non so se fa sigle per la televisione ha fatto la sigla anche per il quando Fabio Volo quando c'era il il lockdown che Fabio Volo ha fatto quella trasmissione su Instagram come è che si chiamava Pippe qualcosa no come che era Orchite 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 Show Orchite Show è la sigla l'aveva fatta lui se non vi ricordo male e quindi comunque caspita ma dovete guardarvi le sue storie perché comunque sono fatte di montaggio di scena ma anche di cagate cioè di lui che va a mangiare a provare i panini tanta grafica sua fatta a mano sul telefono quindi no bello bello e non vi viene voglia ogni tanto di cimentarvi anche voi ma non a ciascuno il suo mestiere esatto il problema vero è quella roba lì che se tu sei nato per fare una roba non arrivi a fare guarda noi spesso ci dicono ma cazzo adesso vanno di moda i video siete fotografi fate i video ci abbiamo provato perché non è che non ci abbiamo provato e alla fine cosa viene fuori vengono fuori tante immagini belle messe in sequenza che non è fare un film porca buttana cioè è proprio diverso l'approccio mentale nel ah fa anche le pubblicità però con il montaggio in camera effettivamente queste sono le stories che faccio io tutte le sere quando bevo il vino però non sono così esatto lui le fa un po' bene le fa un po' bene ma dovete anche sentire però ma quindi io mi ricordo ho convissuto con Mario Piccaluga lui per quanti anni tre anni tre anni adesso che dice il nome io me lo ricordo Mario Piccaluga meno male Piccaluga il Piccaluga è crollato un mondo nel senso che lui ritoccava post produceva le foto delle riviste che non esistono più esatto e come si qua è venuto infatti non lo fa più poi poi Wired non chiedeva neanche i preventivi si faceva i ritocchi si mandava la fattura era una bomba è per quello che forse chissà magari un po' più l'unico cliente l'unico cliente che non chiedeva i preventivi comunque no non è fallito per questo no infatti proprio delle scelte comunque caspita secondo voi è la fine per sempre di questo tipo di editorialità curata io sono abbonato a Monocle per esempio è una rivista che ancora conserva un gusto forse l'unica che è rimasta una delle poche scusami se ti interrompo però lo stesso Wired questo ibrido tra libro e rivista che esce tre mesi mi sembra trimestrale credo non lo so non ci lavoro più da un bel po' esatto comunque è un prodotto che dal punto di vista editoriale è veramente molto bello ogni quanto esce? due o tre mesi tre mesi ma cartaceo a un certo punto hanno smesso cioè che ha una dignità ha una dignità diversa però non c'è più una redazione qui sì sì allora c'è sì tu che non ti chiamano più cioè non è che quando ha chiuso no è che quando ha chiuso la rivista quella mensile diciamo classica hanno mantenuto il il brand Wired per la parte quella del Wired Next Fest cioè eventi e la parte online tra l'altro la parte online non so neanche se c'è ancora credo no c'è io li seguo su Instagram fanno cose sì in realtà per un po' di tempo ho continuato a fargli delle consiglie per il sito e contestualmente e contestualmente invece c'è questa questa pubblicazione che lo raccoglie credo che il punto di vista formale il direttore sia lo stesso della parte web che dovrebbe essere Federico Ferraz se non sbaglio mentre mentre invece tutta la parte hard direction è gestita da uno studio esterno e la foto editor è sempre interna con The Nast perché è la Francesca Morosini che lei è GQ GQ infatti ho fatto delle cose per GQ però credo che allora ci sono delle cose che sono commissionate perché poi in realtà dentro dei servizi proprio servizi ce ne sono pochissimi sono tipo 5 o 6 servizi ma posso dire io mi sono abbonato a questa rivista monocle e non trovo assurdo che non non riparta questo business perché io da fruitore mi rendo conto no 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 aspetta mo ti fotto boomers tua sorella cioè io mi rendo conto io ce l'ho la sorella quindi io scusate io almeno mio fratello scusami tra l'altro è una ragazza per bene ma per bene non ci metto la mano sul fuoco manco io non so come dire quando navigo su internet non sono libero sono veicolato da un algoritmo che mi dà quello che sa che mi può piacere quindi sono in una gabbia dorata sono una bolla sono una bolla quando leggo una rivista quelli non sanno che la sto leggendo e esco dalla mia zona di comfort informativo e scopro delle robe che non avrei mai scoperto su internet ed è una bomba perché la vita è anche questo è imprevedibilità non è solo quello che cerco io e che so che mi piace e non capisco come sia possibile che questa cosa non venga tutta così o succede come nella famosa pubblicità di apple che è come dire scimmiotta orwell orwell è la famosa esatto o arriva qualcuno che tira sto martellone sullo schermo del grande fratello e ci libera secondo me invece la gente ha voglia secondo me oggi non ci sono dei prodotti giusti ma la gente ha voglia la gente ha voglia ma gente di un certo tipo perché l'hai detto tu stesso tuo figlio può avere voglia di andare a comprarsi una rivista siamo tutti assue fatti alla dopamina sì è vero però arrivi a un certo punto in cui se man mano capisci che è quello che ha raccontato lui mi accorgo che leggendo un qualcosa di diverso esco dalla mia zona di comfort allora il problema cos'è creiamo un pacchetto dove la gente sia disposta a pagare per uscire dalla zona di comfort perché quella è la grande differenza perché la realtà è che è normale che se tu usufruisci di un qualcosa gratis fanno quel cazzo che vogliono allora il concetto è che oggi io per essere libero devo essere disposto a pagare è la stessa roba della musica non sono tanto d'accordo guarda i servizi di streaming dividetevi oggi scusami guarda i servizi di streaming nasce Max SSRL e Douglas scusami guarda i servizi di streaming video per esempio c'è lo stesso Netflix il famoso minchia sto cazzo l'altro algoritmo in Netflix eh porca puttana però la mia compagna quando mette Netflix siccome è donna gli fa vedere tutte le cose le comedie d'amore esatto e li paghi non è che non paghi perché Netflix lo paghi però il famoso quello dicevi tu prima il confirmation bias cioè ce l'hai anche se paghi ma non sto dicendo che se paghi sei libero sempre però puoi decidere di adesso lo dico delle stupidate se ci si mettessero insieme tre giornalisti che stimo e tutte le settimane fanno degli approfondimenti su qualcosa sono disposto a dargli un euro ad articolo e moltiplicato per tutti quelli che hanno voglia di farlo sentire forse guarda innanzitutto loro si potrebbero permettere di vivere facendo secondo me spocchia nel senso che i giornalisti e il mondo dell'editoria se la tira di brutto dovrebbe abbassare secondo me guarda te la dico te la dico brutta abbassare un attimo la cresta e dire usate i mezzi di marketing che usiamo noi a Money Surfers cioè io ti dico guarda guarda vuoi rimanere un rincoglionito a vita vuoi rimanere schiavo della tua vita e schiavo degli algoritmi non c'è problema guarda che se però tu ti abboni alla mia rivista io ho una ricerca scientifica che dice che chi si abbona a Wired 3.0 aumenta il suo fatturato perché ha delle idee più creative è una vita più di successo e il cortisolo che abbiamo misurato nella sua sangue è migliorato perché cazzo quando io leggo un libro o leggo una rivista ho delle reazioni chimiche nel mio cervello diverse rispetto a quelle che ho quando scrollo una merda di social e perché nessuno lo vende vendilo fai un cazzo di spot che dice guarda le prove provate che se tu ti metti la domenica mattina e ti dedichi due ore di tempo tre ore di tempo alla sera mezz'ora a leggere una roba che non ti aspetti ti fai stupire guadagni di più sei più felice e scopi di più ma tu pensi che sia facile e alla fine ci deve essere questo ma tu pensi che sia facile vendere i broccoli agli eroinomani è la stessa cosa io ce l'ho anch'io sono d'accordo con lui io sono appoggio quello che dici tu perché devo appoggiarlo per forza non dire così non appoggio niente io credo che come spesso succede nella storia stiamo vivendo una specie di medioevo culturale cioè dove c'è abbastanza uno sprizzare una crescita dal punto di vista tecnologico che però depaupera proprio il nostro livello di educazione ma come dopo tutti i medioevi poi ci sarà una ricrescita spontanea un rinascimento cosa succede è che la crescita la rivoluzione tecnologica di internet è stata talmente veloce che chi c'era prima e noi siamo nati io sono nato a metà sono nato quando è nato internet cioè ci ho vissuto i primi anni ma non sono un nativo veramente digitale quindi sono qua sono un po' vecchio da una parte e un po' giovane dall'altra voi mi spiace siete proprio vecchi abbiamo una certa quindi cosa succede a voi tu hai guardato perché il radio nel podcast sembra che l'hai detto solo a loro non è che siamo così maleducati no no a tutti quelli presenti a sto tavolo infatti è il più giovane perché tu sei il più giovane è là è il più giovane è là lui è nativo digitale di brutto sì ma è già vecchio lui la gente è sempre in audio non dobbiamo dire che ogni giorno ogni puntata viene una persona a darci una mano a farci il caffè lo diciamo che oggi è come ti chiami? Nicolò scusa che l'altra volta ci faceva capire quanto eravamo vecchi sì perché non usavamo Twitch no e TikTok che vecchio e TikTok prima abbiamo parlato anche di Twitch perché voi non c'eravano comunque finisco la mia sciocca ringa che ho già perso il filo questo dimostra che anche io sono un po' più vecchio di quello che penso di essere allora cosa è successo che tutta questa gente che aveva una spessore e ha tuttora uno spessore culturale si è ritrovato all'improvviso in maniera molto veloce a vivere in un mondo molto diverso però c'è tutta questa gioventù e noi lo vediamo i nativi digitali adesso stanno vivendo un'overdose di questo tipo di tipologia di contenuti ma alla fine anche loro cresceranno e capiranno che quel tipo di contenuti non li fa vivere meglio e diventeranno i nuovi fautori del rinascimento culturale alcuni lo capiranno qualcuno l'ha già capito ma molti no perché il loro cervello è stato plasmato in maniera quasi irreversibile ma anche il mio cervello è stato plasmato dalla tv ma se ho fatto una reversion allora siamo figli comunque di Berlusconi che è arrivato con Italia 1 eccetera eccetera colpo grosso l'abbiamo visto tu io c'ho ancora le puntate registrate le puntate registrate del colpo grosso eppure siamo rimasti coglioni Niccolò sai cos'è colpo grosso? no però ragazzi non è la stessa cosa perché a quei tempi tu ti dovevi sorbire la pubblicità tu ti dovevi aspettare che arrivasse l'ora in cui c'era quel programma che ti piaceva adesso non è così adesso tu puoi avere tutto quello che vuoi in qualunque momento puoi avere una scarica di dopamina ogni 5 secondi e dove vuoi? qualche anno fa c'è stato un discorso fatto su internet da questo Simon Sinek che è un formatore americano quello che ha copiato il muore lui ha spiegato lui ha fatto questo discorso sulla suefazione da dopamina che ormai hanno i millennial certo lui spiega che tutte le cose che scaricavano dopamina nel nostro cervello fino a poco tempo fa erano o illegali o fortemente regolamentate adesso no adesso le diamo ai bambini vabbè ma una volta la dopamina era la ragazza che a un certo punto ha iniziato a mettere la minigonna però io sono d'accordo sempre colpo grosso io sono d'accordo comunque con la suefazione nel senso che io penso che il discorso che stavo facendo prima sulla fotografia è che a forza di vedere gattini la gente si romperà i coglioni di vedere gattini e cercherà di alzare il proprio livello nell'arrivare ad avere delle immagini un pochino più se no siamo spacciati no no quello sicuro io però ho una fortissima preoccupazione per il merito perché tu guarda ad esempio instagram che è diventato il punto di riferimento per la fotografia perché oggettivamente lo è ma morirà è passato è passato già quando quando ci siamo tutti spostati su instagram noi vecchiardi abbiamo cominciato a dire sì però come fai a capire le foto le scorri veloce adesso non basta neanche più quella velocità si passa alle storie che sono ancora più veloci cioè si arriverà a un certo punto in cui o implode il sistema alla ricerca della velocità di sfruttamento di contenuti io credo che alla fine la gente si stuferà di non avere nulla che ti rimane cioè questo è il concetto il problema è che quello che dice lui stranamente io sono uno invece che tende a guardare al positivo però mi risuona magari un problema di fisico esatto di annientamento di cellule cerebrali non so come dire se tu a un certo punto sei avvelenato e poi non cresce il cervello e non ce l'hai più la sensibilità di capire che sei tossico ci vuole quello che dicevo prima ci vuole un muccio lì dell'internet visto che adesso visto che adesso c'è questo Silial tu hai citato Netflix Sampak di cui ho visto una puntata e faccio finta di averlo visto tutto l'ho visto io l'ho visto anche comunque quella roba lì un Sampa di Instagram facciamo la chiasso facciamo noi un centro di recupero per drogati allora faccio un'altra prospettiva in realtà non c'è tutto quello che mi hanno detto è tutto sbagliato perché la gente i ragazzi di oggi usano Instagram Facebook come entertaining e poi vanno su Google su YouTube e si acculturano e quindi in realtà siamo noi che pensiamo che si siano rinconiuniti no tu cosa fai Niccolò che sei il vero esperto però posso dire una cosa guardando mio figlio di 15 anni che è quello che vi stavo raccontando prima che forse è il caso sì già lui per esempio Instagram non lo usa usano Twitch che stavi parlando che secondo me diventerà molto più verticale nei prossimi anni e uno avrà tra virgolette il tempo di guardarsi i contenuti che vuole e questa è la grande differenza il concetto è che mentre adesso sono veicolato oggi è impressionante i gamers cioè le visualizzazioni che fanno cioè mi ha detto Tommaso che c'è quello che segue lui cioè che ha avuto il record di visualizzazioni al mondo c'è un miliardo di visualizzazione per lo sblocco dei cazzilli di fifa no 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 lo so ma ora quello è è un canale dedicato al game ok sappiamo perché ci stiamo entrando un pochino che piano piano diventerà invece verticale su altri argomenti allora il concetto qual è ah ci state entrando perché voi avete un canale twitch non è che avete un canale twitch noi non abbiamo un canale twitch stiamo cercando di creare un po' di trasmissioni un po' di contenute la visione di Max & Douglas hashtag foto in casa esatto e quindi qual è il concetto cioè ho degli argomenti dove posso andare direttamente da chi ho voglia io per cui dal bazar tomico da Max & Douglas da Pippo e Caio che mi racconta come fare la pizza e a quel punto non sono più bombardato da quello che voglio perché sono libero di innanzitutto io a fare comunicazione se voglio se ho voglia di fare comunicazione e b poi chi mi segue a scegliere la mia comunicazione ok e secondo me questa è tra virgolette una rivoluzione per questo penso che fondamentalmente Instagram Facebook che sono basati sul nulla e sulla dopamina e tutto quello che vuoi tu vada a scendere perché le nuove generazioni di vedere le stories che usano puramente come comunicazione perché so che il mio amico in questo momento è in montagna l'altro a scuola l'altro mi manda i compiti cioè perché la usano così ragazzi le stories per sapere cosa fa l'altro c'è proprio un modo possiamo mandarsi l'SMS bravissimo cioè oggi lo usano così e i loro canali invece sono YouTube e Twitch perché seguono chi vogliono loro quando vogliono loro ok il mio figlio è un drogato di Aldo Giovanni e Giacomo ma come veramente sa tutto a memoria perché si guarda le loro gag 50 volte al giorno e ride ogni volta ride come uno stupido per cui credo che intrinsecamente cioè ci sia una volontà di uscire da quegli schemi speriamo dai cioè Facebook non sa neanche cos'è secondo me però il fatto è che nei primi anni di vita cioè come se vanno protetti i neuroni dei bambini secondo me ricordiamoci sempre che Steve Jobs non faceva usare i suoi stessi device ai suoi figli e anche Berlusconi i suoi figli non vedevano la tv lì perché la moglie la Veronica Lario glielo vietava cioè c'è questa tendenza a proteggere no? cioè nel senso io lo capisco almeno nei primi anni il cervello è troppo vulnerabile quindi poi dopo sì ma secondo me nei primi anni è proprio pericoloso però ti abitua anche a quello che è il mondo a quello che è il mondo micro dosing quello che si chiama micro dosing magari glielo si deve dare ma in piccole quantità cioè mi ricordo che quando ero piccolo tipo magari non vedevo alcuni cartoni che i miei amici vedevano era un po' lo sfigato cioè non è che tu puoi andare a scuola a dire oh avete visto che su tiktok no mio papà non me lo fa vedere tiktok no grazie basta cioè comunque io ho mia figlia io ho mia figlia l'ho virato tiktok ragazzi tiktok e per quanti anni ha quanti anni ha 12 eh minchia lì roba ed è contenta ci sono state delle news anche in quel anno no non è contenta ma adesso non voglio fare il bravo papà però ne abbiamo parlato effettivamente ha convenuto con me che che fosse il caso che io ce l'ho quando vuole vedere qualcosa magari le presto il telefono o l'ipad io ovviamente butto un occhio perché ragazzi comunque c'è c'è di tutto veramente di tutto ma soprattutto la cosa brutta di di quello che succede tiktok all'estremo beh abbiamo visto anche in questi giorni esatto è una cosa piuttosto triste e ma anche su su instagram cioè queste ragazzine poi lei è femmina è mia figlia femmina quindi c'è queste ragazzine di 12 13 14 anni si mostrano sì sono non capito c'è questo modo di mostrare tornando sui selfie c'è questo modo di mostrarsi che che è è troppo lontano dal giusto non so come dire non voglio fare il bacchettone con un papà come il tuo dovresti dirgli mostrati però con uno stile di Richard no come si chiama no ma è la grande sfida di Hamilton esatto è il Newton beh insomma no esatto voglio vedere cosa rispondere no 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 Richard Avedon vabbè però anche lui insomma cioè nel senso nostro beh ma torniamo no però scusate torniamo esattamente a quello che si diceva prima cioè se oggi la scuola ti preparasse culturalmente a farti capire che è inutile mostrarsi con facendo vedere il culo le tette ma ci sono milioni di modi per raccontarsi anche in maniera più intima più figa più culturale più eccetera eccetera probabilmente poi avremo una serie di ragazzini che ma se glielo dice la scuola secondo te no diventa una cultura proprio cioè contemporanea loro lo sanno che sui social in generale cioè distinguono la comunicazione sui social da quella dal vivo in presenza cioè fanno poi le stesse io non lo so secondo me fanno le stesse cose per esempio la questione dei rapporti sessuali che rispetto alla nostra generazione è calata di sette anni cioè porca puttana cioè quella è un dato oggettivo no per cui che da capisco che devo dirvi ci ho pensato parecchie volte non so ancora se sono pro o contro perché la nostra generazione sono che prima di darla via dovevo sposarmi no e quindi prima c'era la repressione esatto forse non era forse non era giusto neanche quella in medio stati virtus esatto è vero è vero allora cioè devo essere da una parte libero del mio corpo libero della mia sessualità libero di tutto quello che voglio e poi probabilmente capirò che forse a sette anni è un po' prestino e però neanche a 19 ci sono dei limiti che comunque io credo debbano essere sì ma no ma non dico di no ma non dico di no però non devono essere ma io sono no Max ma sono d'accordissimo però non neanche come quelli della nostra generazione che se la davi via cioè venivi folgorata folgorata dal diavolo che ti faceva diventare siamo una società fortemente cattolica ho capito vittima per cui secondo me in realtà dovremmo guardarla nella storia non dai 5-10 anni che attraversiamo in questa cosa ma probabilmente un'età un po' più larga per capire che c'è sicuramente stata una transizione che nessuno si aspettava dell'arrivo di internet e poi dei social e di tutto quello che sta succedendo e quindi ci sarà la società che si deve tarare in questi anni per ricondurre un pochino e tutto questo i sordi voi come li fate? un fotografo non voi cioè in generale adesso come adesso adesso come adesso le fonti di reddito guarda se era andato il sole 24 ore vabbè non fare fuori beh adesso ci sono le possibilità secondo me ci sono un sacco di possibilità che è quello che stiamo cercando di sviluppare di andare direttamente a far comunicazione con le aziende che è una roba per esempio che oggi le aziende hanno bisogno perché il crescere comunque dei social e dei canali hanno portato il livello della comunicazione in alto ok e i contenuti che vengono bruciati in un secondo mentre una volta noi facevamo una campagna e durava un anno adesso per le aziende non dobbiamo fare una foto ma dobbiamo farne 50 alla settimana e quindi se riesce a creare un po' oggi secondo me le nuove generazioni devono essere un po' più trasversali no? quando noi siamo nati cresciuti c'era fotografo c'era il video c'era la grafica c'era pubblicità oggi vedo che tendenzialmente i ragazzi sono più trasversali però posso dare attraverso la mia esperienza un apporto a un'azienda che sposa un po' come i toscani tornando sempre a toscani l'idea una mia visione e portarla avanti nel crearti i contenuti per pubblicizzarti o per fare comunicazione sui social cioè da fotografia content creator comunque di sordi se ne fanno molto meno eh immagino ma molto meno perché c'è più concorrenza o perché c'è meno budget non c'è budget perché per questi progetti ce n'è pochissimo di budget ce n'è pochissimo perché non pensano che valga la pena cioè c'è poca educazione dal punto di vista si è approcciati in una settimana come ti ha detto lui prima tu facevi una roba che ti era un investimento anche per l'azienda per mesi adesso un feed è un giorno si hai ragione però c'è anche una cosa che una volta facevi una programmazione pubblicitaria su una rivista spendevi 100.000 euro oggi con 100.000 euro sui social porca puttana cioè ti vedono 10 volte i numeri delle riviste che ti vedevano una volta con 100.000 euro per cui sono cambiate io credo che lì ci sia margine culturalmente tutti i budget si stanno spostando lì per cui le aziende hanno capito che tutti stanno internizzando comunque le figure per cui le agenzie di pubblicità adesso secondo me solo dal punto di vista tecnico cioè che devo prendere delle figure che comunque mi sappiano postare ripostare cioè seguire tutte quelle operazioni di marketing però i contenuti posso darglieli io internamente per cui ci sono delle aziende che addirittura obbligano i loro dipendenti a creare eccoli le storie siamo noi abbiamo iniziato proprio ieri cioè per cui è un aspetto veramente molto interessante secondo me c'è un margine di manovra incredibile poi le aziende devono capire che devono investire su delle figure che mentre prima rubavano le foto dalle banche immagini a cazzo oggi probabilmente devono rivolgersi a dei professionisti per avere innanzitutto un loro modo d'immagine pensa ai nostri amici con Kateran eccetera eccetera chi è? quelli di Toilet Paper ok hanno creato un brand attraverso l'immagine che sono partiti da loro quella roba lì che oggi poi rivendono alle varie aziende cioè fattura delle cifre che sono veramente impressionanti ok e quindi secondo me spiegacelo com'è che funziona Qualformatly? No Toilet Paper nasce da un'idea di Kateran l'artista sì non Don Alessandro no 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 e fotografo per Paolo Ferrari e hanno iniziato a a prendere dei contenuti a farli fotografici e hanno iniziato con un magazine ok questo magazine è diventato talmente forte che hanno iniziato poi a creare tutta una serie di oggetti merchandising eccetera eccetera globalmente in inglese giusto? io non lo so è scritto in inglese? sì sì no no è anche scritto è partito in italiano ora devo dirti non lo so però ora loro utilizzano il loro gusto per milioni di di brand di brand cioè tu se io voglio una roba la toilet paper li chiamo e loro ti toilet paperizzano il brand esattamente cioè non so se si vede quanto è piccolo lo scroller adesso cioè questa pagina è una cosa enorme e su tutte le cose che hanno fatto è infinita però questa non è fotografia no è un collage è un collage ma sì no beh c'è anche c'è anche fotografia però il concetto i contributi però il concetto qual è? cioè io sviluppo un certo tipo di gusto di concept eccetera eccetera pensate se ogni azienda facesse questa roba qua no? tu oggi riesci tanto scusa ma assomiglia alla brochure del bazar atomico come mondo direi che ci hanno copiato no direi che no direi che la nostra grafica scatta la capa è vero beh interessante quindi essenzialmente interpreto a mio modo quindi quello che sta dicendo eccolo un fotografo cos'era un fotografo deve diventare un marchettaro cioè deve capire no 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 ma tu puoi fare anche una cosa artistica perché non è vero no marchettaro nel senso che devi capire cioè non è solo più la fotografia in senso artistico ma è anche la fotografia nel senso di comunicazione costruire proprio capire assolutamente come correlare il brand la brand identity dell'azienda dal punto di vista grato cavolo tu pensa che forza puoi avere internamente un fotografo pagato anche bene profumatamente che mi crea i contenuti per i social e fa da coordinatore per tutte le attività che devo fare attraverso i miei canali quindi state trasformando in un'agenzia di marketing no perché in realtà no quello che piace a noi in questo momento è fare dei progetti che portino un piccolo nostro apporto magari a quello che è l'idea di un brand no per cui lo adattiamo cerchiamo di adattare la forma al nostro modo di vedere le cose ma guarda io sono mi suona tantissimo questa cosa perché ho degli amici io ho provato a suonare per tanti anni con pochi successi e quando la musica nacque in Apster quando nacque in Apster si disse la musica è finita basta nessuno farà più musica e invece piano piano si è capito e no la musica non può un mondo non può vivere senza la musica cool la musica attuale la musica pop perché è veramente da dove nascono i trend cioè la musica è la sorgente di tutti i trend perché è l'arte e infatti poi i musicisti hanno trovato mille modi per monetizzare no addirittura ci sono musicisti vedi Rihanna che hanno creato ha creato il loro brand oramai hanno account social che fatturano un milione di euro perché dove c'è la figaggine alla fine le aziende in qualche modo vengono attratte cioè non conta cambia solo la maniera in cui monetizzi non venderai più i dischi ma se sei in gamba mi spiace ma e sei un po' versatile e non sei con la puzza sotto il naso riesci a portare il tuo bagaglio perché comunque Toilet Paper ho visto adesso cosa fa cioè in realtà ha portato il suo immaginario e sono le aziende che poi devono adeguare al loro immaginario ma quella è la forza cioè i leader sono loro i followers sono le aziende cioè secondo me e la stessa cosa può avvenire per la fotografia come è avvenuta per la musica cioè vuoi dire vuoi mettere a avere una campagna o un'immaginario coordinata firmata da due fotografi sì vabbè ma con i nostri numeri non lo so però concettualmente oggi i giovani nascono se tu vuoi vedere fotografi fighi di oggi quando c'hai cazzo due milioni e mezzo di follower cioè muovi dei numeri che le aziende dicono porca puttana cioè no quindi io divento il mio brand fondamentalmente cambia tutta la visione per cui quello che dico cioè da una parte è difficile però dall'altra l'investimento in questa cosa e secondo me lì è ancora abbastanza meritocratico no? cioè chi arriva a spaccare qualcosa ce la deve avere perché se no non arrivi a avere sei milioni di follower se spari cazzate basta e allora poi posso in qualche modo usare la mia forza per monetizzare questo è il futuro di tutti quali sono i più fighi di adesso nel mondo della fotografia sui social? boh quelli italiani che vanno molto sono Alessio Albi per esempio fotografo di moda la Marta ovviamente la conosce la Marta beva acqua Marta beva acqua no ce ne sono che hanno dei numeri numeri importanti importanti devo dirvi togliendo un pochino loro che no che hanno numeri importanti li conoscono i ragazzi perché hanno uno stile che è molto attuale è molto attuale però se vai a vedere in profondità la cosa bestiale qual è? che quelle foto lì cioè le hanno già passati tutti i fotografi che sono stati fatto parte della nostra storia ma qual è la differenza? che quelli lì non li conosceva nessuno come fa Tarantino con i film che fa le stesse scene di Sergio Leone ma tanto Sergio Leone non l'ha visto nessuno esatto Tarantino è un figo no? porca puttana non è un figo Tarantino ma infatti i ragazzi di oggi io lo vedo nella musica i ragazzi di oggi mi racconta sempre io ho un insider ho un mio amico che è un manager importante della musica che mi dice no ma i ragazzi di oggi se ne fottono cioè loro dicono pilano tipo fu Gali che ha fatto una copertina di un suo disco cioè dopo due giorni l'hanno denunciato perché aveva copiato quella con la faccia che è fatta costruita con i nastri con un nastro cioè copiata è una opera d'arte ma non è che lo fanno consapevolmente consapevoli del fatto che stiano rubando un'idea nascono già con il copyright free perché comunque internet è tutto copia vabbè copia incolla che cazzo me ne frega cioè non so come dire nascono così nascono come noi liberi liberi nascono liberi siamo noi che siamo così chi usi ma non lo so io secondo me era più bello quando si facciano solo le fotografie troppe troppe menate troppe cose quindi la tecnica non conta più tanto cioè saper fotografare tecnicamente parlando no neanche artisticamente serve nel momento in cui vuoi fare quello che vuoi quello che dicevo prima la tecnica fotografica è una cosa che tu impari in tre mesi cioè senza solo voglio dire che noi insegniamo istituto europeo e design non la tecnica però si sviluppa su tre anni cioè la tecnica fotografica la impari in due mesi ok vai a fare l'assistente due mesi da un fotografo e sei pronto quello che cambia è saperla mettere in pratica cioè e questo vuol dire sperimentare sperimentare continuare a fare 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 ma come in tutti i lavori ragazzi creare la tua visione il nostro è un mestiere artigianale cioè non si scappa creare uno stile per cui poi la gente chiama te e che tu fai le foto con quella firma là e che se non chiamano te non gliele fai nessun altro sì ma è anche standardizzare dei processi se tu prendi un liutaio e cioè anche tu magari sei capace di fare una chitarra però quello cesella tutti i giorni per vent'anni cioè capito è quella la grande differenza tra una cosa e l'altra chitarra la fanno tutti il maestro liutaio che ha investito vent'anni la fa più figa della tua tanto a proposito di processi a proposito di processi mi si è sempre domandato perché ho studiato fino a un certo punto processi penali o processi di sviluppo esatto la vostra fedina è penale perché siete in due cioè nel senso il bottone chi lo scaccia della macchina fotografica io sto a casa nel corso di questi vent'anni tu fai l'amministrazione sentite di ogni con tanto di soprannomi la stessa la stessa Morosini che ci aveva soprenominato porca miseria no non era scatto e flash una o un'altra la Morosini ci aveva detto che eravamo Raimondo e Raimondo e Sandra esatto Raimondo e Viene no in realtà va bene perché noi abbiamo iniziato lavorando con il banco ottico cioè quello grosso ti metti cosa 20x25 con la luce pennellata con la luce pennellata quindi noi eravamo insieme e costruivamo insieme poi quando c'è stato il passaggio in realtà la la sintonia è rimasta e abbiamo continuato a lavorare insieme anche nel passaggio poi vabbè pellicola e poi digitale chi scatta in realtà per noi è sempre stato un una cosa marginale nel senso che gli scatti li abbiamo sempre pensati prima poi con tutte le difficoltà che poi nel momento di farli in realtà poi si presentano però li abbiamo sempre pensati prima sempre organizzati prima cioè diciamo la nostra è più una visione di coppia dal punto di vista creativa creativa sì coppia creativa dal punto di vista della preparazione e di quello che viene dopo perché anche l'editing comunque che è la parte forse ancora più importante perché il saper scegliere le proprie foto non è non è facile avere due teste ci ha sempre aiutato molto sul set e dopo e poi scusa e voi come l'avete vissuto il passaggio analogico digitale perché io mi ricordo io mi ricordo che nel giro di sei mesi tutti i miei clienti sono passati dall'essere no la pellicola non la batte niente io lavorerò sempre in pellicola sei mesi dopo digitale perché se no non lavoravano più è certo malissimo malissimo è stata la nostra carriera è stata costellata di momenti come quella di tutti immagino di difficoltà che si sono susseguiti nel corso degli anni questo è stato uno stacco dieci anni prima secondo me hanno vissuto di rinni porca miseria se avessimo iniziato dieci anni prima sarebbe tutto diverso comunque è stato un momento veramente difficile noi ci siamo dovuti mettere a tavolino letteralmente ok ma che famo perché noi veramente lavoravamo con i Pola a 20-25 a fare cose impennellate di notte al buio cioè quando la rivista dal giorno dalla settimana dopo ti dice senti devi andare lì a scattare questo qua che ha quattro minuti che cazzo fai cioè qualcosa ti devi inventare perché se no smetti e quindi è stato è stato difficile però anche lì però abbiamo avuto la fortuna di essere forse ancora in quell'età che hai voglia di sperimentare o vivi la tecnologia del momento e cerchi di farla in qualche modo tua per cui non è un caso che poi insieme a noi i post produttori stavano crescendo ci siamo uniti e abbiamo tra virgolette fatto di quel problema in realtà la virtù per arrivare poi alle riviste con dei prezzi e con delle idee infatti poi è stata la nostra fortuna infatti dico era riferito che comunque in effetti poi mi ricordo che è stato il 2004 io mi ricordo nel 2004 tutti i miei clienti hanno cambiato cioè alla fine voi eravate giovani nel 2004 se sono giovani adesso figuriamoci nel 2004 è salvato 23 anni magari magari qua siamo tutti no vabbè ci svegliamo tutti la notte due volte però pensa che io invece quegli anni io me li ricordo per dirti come poi la generazione che non riesce a in qualche modo a evolversi muore io noi avevamo i nostri professori anche fotografi che ragionavano proprio dalla crescita della pellicola per cui figurati se passo in digitale ma c'è vettuto Pio Tarantini Pio Tarantini Pio Tarantini no noi siamo usciti nel 97 e noi nel 2003 noi l'abbiamo fatto licenziare nel 2000 perché praticamente avrà un bel ricordo di voi era un po' molto cioè un tipo molto antico no fa questa lezione su Mappletorp comincia a mostrarci le foto un fotografo eh sì un fotografo di cui non possiamo mandare esatto è tutto erotico e comincia a mostrarci queste foto i fiori ha fatto anche dei fiori i fiori e poi li posso mandare i fiori i fiori e poi le vagine tutti mormoravano i fiori e poi le vagine professori i cazzi e lui proprio scusate ma mi imbarazzano ve li ho mostrati e quindi da lì abbiamo protestato con quello che si spende e dice con quello che si spende non ci possiamo neanche vedere una censura non può essere di un professore no però tutti quegli anni lì i fotografi che non si sono adattati sono morti cioè questa è la realtà delle cose no? e sui social è lo stesso e la legge della natura e quindi interessante perché nella vita di qualsiasi imprenditore voi siete imprenditori voi stessi che questa frase è ordimile siete riusciti a convertirvi con la nuova tecnologia anche ad uno stile diverso lo dico io per voi così non ripetete sempre la stessa cosa che prima facevate la luce pennellata set luce pennellata vuol dire che a un certo punto c'è il buio voi scorrate e stare fermo e voi con la luce girate e pennellate la luce nella foto con l'esposizione bassa basta giusto lunga 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 e quindi è una foto impostata poi finisce tutto sto mondo qua siete diventati dei ritrattisti da paura io ho guardato per fare un po' di nomi perché magari non tutti Gali Tilda Swinton Chris Martin Michael Phelps Elisabetta Canalis Fedez Valentino Rossi Usain Bolt Donatella Rettore Donatella Rettore C'è zucchero Stefano Accorsi venisse incontrata al zucchero abbiamo Albertino Albertino un mondo ragazzi ce l'avete la macchina fotografica dietro perché non ci invitate a fare dei ritratti te l'ho detto è una nostra gag che lui si invita sempre a tutte le cose degli ospiti no dico poi a un certo punto siete passati a queste robe qui queste robe qui com'è che queste foto fighe com'è che vengono dite fai la linguaccia oppure c'è anche quelle belle di di cosa di Lucio Dalla no fai la faccia strana siete voi che li dite così o cosa succede cos'è che succede tendenzialmente sul set si crea come qua con voi ragazzi cioè un assolutamente normale ti metti lì si chiacchiera due cazzate eccetera eccetera e chiaro così per dire è Massimo Boldi una coppia un improbato Massimo Boldi non l'ho mai visto così è bellissima questa immagino che questa secondo me racconta più di ogni altra cosa l'Italia esatto non so come dire esatto sì 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 no secondo me è quello che dicevo lui prima alla fine ti cambia la visuale ti cerchi di di pensare alle tue immagini in un certo modo e piano piano l'evoluzione va di per sé devo dire che la nostra carriera è stata un po' al contrario cioè è quella di partire dall'effetto wow della luce pennellata nel tornare un po' all'essenza dell'immagine perché abbiamo capito che alla fine è quello che importa il contenuto come si fa a fargli fare delle espressioni Abbatantono è rappresentativa di Abbatantono cioè queste espressioni qua com'è che vengono perché sono tutte pazzesche com'è che fanno a venire fuori quando noi abbiamo qualcuno sul set in realtà è veramente difficile che gli diciamo che cosa fare succede perché ovviamente un pochino devi devi rompere il ghiaccio nel senso che quando lavori con le celebrities comunque tu vai hai quattro minuti da passare con una persona che non l'hai mai incontrato in vita tua e quindi è difficile pensare di saperla di conoscerla così bene da dire adesso tiro fuori questa roba cioè tu ti fai un'idea poi magari questo arriva entra in studio cerchi lo guardi ma anche da lontano percepisci magari una gestualità che secondo te è interessante ed è quella che poi magari provi a sfruttare sul set però generalmente si cerca veramente di lasciarlo è come dice il rapporto tra il modello e il fotografo è esattamente quello che diceva lui cioè se tu riesci a creare un rapporto col tuo modello la persona che è davanti lui ti concede perché si fida di te e c'è un rapporto per cui è un lavoro che arriva piano piano e poi ti accorgi quando arriva spesso però come in tutti i rapporti umani ti capita magari di incontrare uno e starsi su goglioni ne parlavo ieri con la modella le dicevo con te mi sto mi sto godendo questo esercizio fotografico perché vedo che tu ti stai proprio si confidava anche mi stava raccontando proprio i fatti suoi ma è proprio come nei rapporti umani cioè va al di là della fotografia questa cosa qua nel momento in cui tu riesci a creare un rapporto umano per cui poi si lavora nella reciproca fiducia se no entra poi la parte professionale che a prescindere da quello che fai ti porto a fare un'immagine che secondo me sia valida e perché devo portare a casa il risultato con la rivista eccetera eccetera state dicendo esattamente quello che dice il World Economic Forum da anni che la prima no veramente la prima skill per eccellenza nel futuro sarà l'empatia e questo vuol dire essere empatici rapportarsi con la persona e far succedere qualcosa spontaneamente poi c'è il lavoro professionale e tecnico che è catturare quel frangente di secondo in cui c'è quell'espressione quella situazione pazzesca bravissima sì ma in tutti i mestieri così cioè anche nel vostro lavoro immaginano cioè quello che funziona nelle vostre conferenze penso che sia l'empatia che è riuscita a creare tutta la vita eh no sì nel senso che senza quella non si fa nulla cioè se hai un approccio di essere su coglioni dove vai cioè finisce tutto subito perché perdi la fiducia perdi il controllo scusa è assurda questa cosa perché abbiamo parlato credo tutta la prima parte del bazar di quello che succede in maniera artefatta nei social adesso siamo arrivati al fatto che ci vuole l'empatia l'empatia si sviluppa se si è spontaneo perché l'altro se ne accorge se non si è spontaneo quindi non si crea un feeling quindi è un cortocircuito interessante sì sì è la contraddizione che stiamo vivendo noi no vabbè ma non è vero comunque sui social una volta non so perché ero finito nella nei meandri di una newsletter di questa donna che raccontava questo modo di vivere i social network alternativo e diceva usate il mio metodo facebook consapevole lo chiamavano e lui diceva fate questo esperimento invece di postare la vostra foto strafighi in costume in costa azzurra o in sardegna eccetera scrivete quello che veramente oggi avete vissuto nella vostra giornata tipo oggi scrivete un testo siete oggi ho vissuto una giornata interessante ma a tratti mi sono sentita triste perché ieri ho parlato con mio marito e abbiamo avuto una discussione profonda vedete cosa succede e c'era la case history di queste faccia vedere queste persone che ricevevano svalangate di commenti like eccetera perché era un'epifania cioè sui social network una persona che parla veramente di se stessa della verità buca sfonda e anche nelle foto penso sia la stessa cosa cioè riuscire a beh guarda per esempio la cosa curiosa che stai dicendo è che comunque mi fa ben sperare a livello poi dei cose che noi per un certo periodo abbiamo detto vabbè ma che rottura di coglioni far vedere siamo bravi sì ok siamo bravi le foto le sappiamo fare abbiamo fatto le foto a tutti quanti magari la gente si è anche rotta il cazzo di vedere la foto di Fabino Fabio Volo eccetera eccetera per cui abbiamo pensato di iniziare a scrivere quelle che erano state le nostre esperienze con loro no e devo dire che quella roba lì ha avuto un successo dove l'avete scritto facevamo i post su Instagram ma certo l'incontro con la persona è interessantissimo esatto e devo dirti che nel momento in cui poi abbiamo smesso perché come al solito siamo grandi imprenditori ma quando la cosa funziona poi si compromette con gli anni la lasciamo lì la gente ha iniziato a scrivere perché smetti di scrivere cosa fighissima adesso abbiamo ripreso adesso escono su abbiamo fatto una rubrica ma voi avete un punto di vista privilegiato cioè one to one con una celebrity non è che sono in molti che possono infatti è una cosa interessante nel raccontare con l'empatia che nasce o che non nasce e che magari ti porta a fare un certo che vuole sapere ma com'è i cazzi suoi com'è nella verità cioè com'è nel mondo reale lui non so è un rompicazzo certo poi vi pone forse in una posizione in cui dovete essere ma non fa niente perché comunque raccontiamo ma in realtà abbiamo sempre raccontato non tanto come era il personaggio in sé quanto di come abbiamo vissuto noi l'incontro ti dico adesso se hai voglia cioè adesso ogni venerdì esce un pezzo abbiamo iniziato questa collaborazione con Tech Princess e esce un pezzo che si chiama Celeb Stories e dove noi raccontiamo questa cosa qua dove si vede sul sito Tech Princess sul sito Tech Princess e perché non lo fate sul vostro Instagram taggando la celebrity che vi porta i suoi follower sul vostro Instagram non ha mai funzionato perché non ha mai funzionato perché non ci cagano no paradossalmente ha funzionato nel momento in cui abbiamo vissuto dell'esperienza di forte empatia dove magari poi è rimasta comunque anche un allacciamento con queste persone allora sì ma extra fotografico con Arturo sì però ogni volta che postiamo poi ci riposce Stefano Accorsi e quindi comunque com'è Stefano Accorsi è un figo della madonna dai Stefano vieni al bazar atomico e porta anche Letizia sta ancora con Letizia Casta No no Letizia Casta ha cambiato credo ma questo è un cazzo suono mi sa che Letizia Casta sta con lui garrella adesso se non dico una cazzata minchia se siete dei gossipati ragazzi io non ne so sti cose che cacchio è lui garrella un giorno capirà insomma la pena chiede Letizia Casta un giorno capirà però alla fine penso che quello che sia la cosa comunque tornando indietro di quello che dicevamo è quello cioè l'empatia è la base di tutto non siete d'accordo cioè raccontarsi funziona cioè lo vediamo anche noi nel senso quando siamo troppo impostati sui social c'è una reazione quando facciamo vedere anche le nostre debolezze ce n'è un'altra ne abbiamo parlato anche con due influencer perché la gente si vuole fare i cazzi tuoi cioè è sempre così no ma infatti non è obbligatorio non lo so a volte a volte no invece da una parte è sicuramente così cioè allora c'è una schiera che vuole proprio farti i cazzi e lo sappiamo però c'è una schiera di persone che vive in un mondo assettico e impara dall'esperienza altrui dice cazzo lui ha vissuto una empatizza con la tua esperienza e impara si forma vuole provare emozioni vuole provare emozioni ma io immagino che siamo in un mondo talmente veloce che anche dal punto di vista genitoriale parentale educativo non hai il tempo di vivere certe cose imparare e imparare come affrontarle e quindi ti ritrovi con degli sconosciuti che per qualche modo ammiri a cui tu dedichi tempo questi condividono e dici cazzo effettivamente anche io ho vissuto sta cosa posso imparare secondo me aveva vissuta esatto secondo me aveva vissuta come se uno non ci voglia non fa proprio come 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 rimando cioè come come dono verso gli altri nel senso voi avete una posizione privilegiata nel senso siete due firme della fotografia italiana tra le più importanti e due figli e due figli e giovani giovanissimi soprattutto giovani cioè tanti fotografi che aspetta penderebbero dalle vostre labbra su su tante cose no cioè mi immagino io devo dire da quando c'è Instagram gli Instagram stories io seguo tanto le persone che stimo e sono contento quando vedo una persona che ammiro che mi condivide la sua quotidianità ovvio sei una persona ispirante per me lo è ovvio che non so tanti influencer che vanno di moda non li guardo perché non mi interessa niente sapere che cosa mangia la sera la Chiara Ferragni me ne sbatte cazzo però caspita far vedere non so fammi un esempio perché sono troppo curioso guarda per esempio io non ho mai ascoltato seriamente una canzone di Lorenzo Giovanotti non mi piace ok però oh quando mi racconta la sua vita condivide i libri che legge mi fa vedere le biciclette che usa mi fa vedere come compone la musica mi spiega guarda oggi ho questo problema oggi non ho composto niente processo creativo delle sue canzoni la sua arte non mi interessa o comunque non mi piace ha scritto delle canzoni belle e mi anzi alcune bellissime però non sono uno di quelli che dice sei un fan di Giovanotti però la sua vita è interessante cioè il fatto che sia andato infatti poi quando ha fatto questo documentario in cui è andato in bicicletta Patagonia in Patagonia no in Sud America ne ha fatto uno in Nuova Zelanda e quest'anno quest'anno ne ha fatto uno tra Cile e Argentina e lì racconta non parla della sua musica parla della anche delle citazioni poetiche insomma ti racconta un mondo e ti racconta anche banalmente come è fatto a smontare la bicicletta cioè sono know-how cioè voi avete ecco guarda quando ero ragazzo sì però la domanda mia è cioè ma che cazzo te ne frega come smonta la bicicletta giovanotti lo imparo cioè nel senso perché lui è appassionato di bicicletta sì 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 cazzo sei un influencer perché mi stai spiegando tu che hai fatto quel viaggio lì come si smonta una bici quale deve quale accorgimenti devo avere se voglio fare un viaggio di endurance così lungo oppure piuttosto dei libri interessanti però quello che dico io è cioè concettualmente perché me lo devo imparare da giovanotti cioè sono appassionato di bici perché non vado a la manutenzione vado su google e clicco su youtube un video dove mi spiega cioè se io sono interessato di mio hai capito perché tu in quel momento lo stai subendo perché comunque non sono così flippato di bici per andare addirittura a vedere lo specialista di biciclette cioè mi basta un livello intermedio e lui ce l'ha e poi comunque da lui vedo più cose differenti io non sono uno verticale che sulle cose mi piacciono le persone curiose che hanno tanti interessi non era una critica era proprio nel concetto che mi limito tra virgolette all'esperienza di giovanotti cioè tra virgolette se lui piacesse il motociclismo e i fumetti io sarei di persone sì sì no no in generale e quindi è più la propositività no? è un vero influencer nel senso no ma la mia domanda è perché forse manca cioè lo stimolo dentro le persone la curiosità tra virgolette ma sai cosa fa parte anche del mio carattere cioè secondo me io sono uno molto emulativo ad esempio adesso purtroppo è da mesi che vengono a scrivere un cazzo di libro e tra pandemie pure io sono papà è un casino vedo un mio collega che scrive un libro mi motiva a scrivere non so come dire cioè se io seguo uno che mi piace che scrive dice oggi e fa vedere che tipo Robin Sharma no? questo scrittore americano fa vedere sempre le location dove lui va a scrivere prende va nel deserto del Nevada si pila le stanze strafighe si mette lì laptop e va nel flow vedo quell'immagine mi motiva a scrivere cioè mi fa venire voglia di scrivere mi motiva poi ovvio dipende chi segui ripeto sempre no 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 ma la mia non è una critica era solo un processo per cui anche stabilisco che seguo lui e non lui per cui magari è dei contenuti che sono cioè come dici tu seguirei giovanotti io se fossi un musicista nel momento in cui mi racconta come il suo processo creativo parte da una cagata e arriva una canzone se lo stimo dico cazzo voglio fare quella roba lì no? e quindi in qualche modo cerco di imparare io sono al contrario di lui sono totalmente avulso da quello che fanno gli altri io non seguo nessuno non so chi è la gente che c'è al di fuori dal mio mondo non so chi è la gente esatto cioè loro nominano nomi voi nominate nomi che sono persone famosissime io saprei proprio chi sono non conosco neanche i nomi degli attori non guardo quasi i film e i telefilm e invece sono non sono verticale cioè sono normalmente curioso mi vengono in mente le cose comunque ho un minimo di interazione sociale proprio minima quindi lui mi dice a bicicletta ma vedo cerco la bicicletta e poi mi perdo nei collegamenti che fa la mia mente e poi scopro anche cose fighissime oppure cazzo leggo un libro il libro cita un altro autore subito mi compro il libro dell'altro autore poi magari non lo leggo Gio cos'è che vorrei dire che ho visto che no mi sono perso ma io poverino faccio questo effetto no no ma però è curioso perché ha un approccio mentale completamente diverso e quindi siamo soci per quello no no ma io comunque ti capisco tantissimo io mi faccio delle violenze quando intanto abbiamo lo stesso maglione uguale al tuo quindi so che ci capiamo non se ne parla neanche non quindi non fruite voi forse sui social non spingete tanto perché non siete dei fruttori di social è molto probabile no perché la vedete come una cosa innaturale un pochino fruisco però effettivamente mi rendo conto che posso potrei tranquillamente farne a meno beh non è una cosa che dico non vedo l'ora di andare a vedere le stories di sì è un prezzo da pagare esatto in effetti è un prezzo da pagare cioè devo dire che anch'io nonostante trovi molte ispirazioni molte no però qualcuna però un prezzo da pagare psicologico lo sento l'altro giorno proprio vabbè una banalità però sentivo questo cantante italiano adesso faccio le citazioni un altro che non conosce Enrico che è Andrea Lazlo De Simone io sono rimasto in Pink Floyd esatto hanno smesso di suonare ho venduto il mio smartphone e non sono mai stato così bene cioè io oramai ho capito che non che è tossico è un processo che purtroppo secondo me l'anzianità ti porta a rivalutare un po' gli interessi nel capire che alla fine devi stare bene tu e quindi devi essere un po' più egocentrico nel realizzare semplicemente quelli che sono i tuoi istinti e probabilmente per quelli della nostra generazione hanno l'istinto primario magari di fare un giro in montagna non di andare a vedere i cazzi di un altro sui social forse se quello ti fa stare bene è quello che dico cazzo se ne frega no no cosa fa l'aslo di medici cioè no e mi fa paura un po' il sognare attraverso un'altra persona e non sognare te stesso di farlo in prima persona in la stessa paura esatto quindi tendenzialmente come dici tu cioè sono portato a trovare quella roba lì figa e sono invidioso e partirei il giorno dopo perché dicevo porca puttana cioè ci voglio andare io a scrivere in Nevada in mezzo a sei metri di neve boh non lo so però è anche caratteriale secondo me sicuro sicuro beh allora io però vorrei fare una distinzione enorme tra un social come Instagram e uno come YouTube perché io Instagram lo uso perché devo usarlo perché uno che fa le foto che poi vuole trovare le ragazze da fotografare se non usa Instagram cioè ormai i siti delle modelle non li usano più quindi poi anche per il discorso del appunto di questa fruizione troppo veloce il fatto che c'è la bassa risoluzione a me mi fa proprio male vedere come Instagram riduce le foto chissà loro le prendi per quello in realtà le prendi per secondo me sei talmente assuefatto che le prendi per il mezzo in cui sei invece a me la cosa rispetto a quello che dicevi tu che mi incuriosisce dei social è che secondo me chi ha voglia di fare comunicazione da un fotografo a un qualsiasi può usare qualsiasi mezzo ok perché io non penso che oggi un fotografo non possa usare YouTube attenzione però come canale social stai tornando all'inizio di tutto alla frase di Oliviero che dice ma che cazzo è la passione per la fotografia non masturbare la tua camera io la uso per comunicare posso usare qualsiasi strumento però in realtà è la verità nel senso che oggi un fotografo che vuole spaccare su ma sì non c'è bisogno di far vedere le tue foto puoi far vedere come lavori su YouTube fai video di come lavori e magari spacchi dieci volte il fatto di far vedere le tue foto fighe la foto la fai pensavo che parlassi della no nel senso che sono proprio diversi proprio come approccio no perché poi per finire quello che stavo dicendo cioè YouTube mi sono reso conto che è diventato cioè praticamente la sorgente di tutte le cose che io imparo adesso cioè io adesso se voglio imparare una cosa la imparo su YouTube perché lì c'è anche una possibilità di creare dei contenuti lunghi che è quello che stiamo facendo adesso certo quindi una persona che cioè io non sono super giovanissimo quindi mi piace concentrarmi su dei contenuti più lunghi comunque la gente te ancora adesso nei commenti ci scrive minchia tre ore di video che coraggio cioè comunque non è che è normale fare su YouTube i video lunghi no ma infatti no però anche 15 minuti anche un video di 15 minuti infatti che cazzo stiamo facendo secondo me questo è parte della tristezza generale di questo tipologia di mezzo comunque perché tu non è bello quello che tu hai appena detto non è bello cioè diciamocelo chiaramente ma perché no perché c'è cosa vuol dire che se io devo imparare cioè se voglio imparare qualcosa basta che vado su YouTube cazzo ma quando io volevo imparare qualcosa andavo dal dal mastro fotografo mi facevo un corso mi incontravo delle persone sono stato d'accordo con lui ragazzi c'è mio figlio a 14 anni che prende il suo bel YouTube si mette lì e si fa da mangiare da solo porca puttana però attenzione porca puttana potrebbe essere uno schermo di protezione dall'interazione umana autentica ma che cazzo mi fiega di andare a fare il workshop di fotografia bisogna essere ovviamente consapevoli di quello che è cioè non bisogna crearsi l'illusione di diventare uno chef perché hai imparato guardando i video di Masterchef è chiaro però intanto mi rendo conto per imparare boh io guardo totalmente tanti contenuti in inglese io ho imparato in inglese guardando YouTube io sono convinto che questa consapevolezza non ci sia chiaro per molte persone non c'è questo è vero e questo è il vero problema chiaro questo è il vero problema però ripeto io vedo Tommaso che fa delle robe che alla sua età io non facevo e che c'è ricetta di cacio e pepe si mette via si fa il cacio e pepe viene bene viene bene il cacio e pepe di tuo figlio a volte sì a volte no su YouTube visto che abitiamo anche nella stessa città ci sono dei video per fare il cacio e pepe su YouTube che voi non avete idea ragazzi ma è ovvio ma stiamo sì però non è non è giusto non è che non è giusto secondo me c'è come posso dire il momento è il mezzo giusto per ogni cosa cioè se tu devi fare una cacio e pepe e non sai come cazzo si fa apri il computer vai su YouTube e guardi il video di giallo zafferano o di chi ti pare ma infatti è quella roba lì ma se tu invece vuoi diventare fotografo adesso prendo il nostro mestiere perché è il nostro mestiere ma anche il vostro non basta un tutorial cazzo non basta un tutorial non basta perché non è solo quello non lo è non è che uno va a vedere il tutorial per diventare Avedon cioè questo lo voglio dire perché scoprirà che non basta però però molti lo fanno molti lo fanno la nostra grande maggioranza secondo me usa quella roba lì per la roba spiccia dei nostri dipendenti qualche anno fa che ci dicevano io chiedevo cos'è che l'avevo chiesto di fare non lo so robe di montaggio video sì mi fai questa roba qui la sai fare? lui è stato preso per fare altro LG sì sì lo so fare sempre sì sempre sì poi io ti giuro non lo faccio mai non sono quel capo ufficio che gira con la mano dietro con i tacchi dietro lo schermo che cozzo stai facendo però non so e sono passato ad andare a stampare passo e vedo mi chiesta guarda il tutorial su cos'era il coso per montare quando lo fa premier e poi mi sono detto ma certo i giovani fanno così ti dicono certo lo so fare basta che vado su youtube how to split video insert solo che ti ho pagato otto ore per imparare otto ore per fare la cosa invece noi li sappiamo già perché quando ti assurdo vedete che lo sappiamo di fare ma certo cioè io sto pagando la formazione a uno tra l'altro stipendo svizzero quindi anche io dico va bene va bene però non è sano io sono ambivalente sono d'accordo sia con te che con te nel senso che mi sembra una opportunità fighissima perché io mi ricordo quando ho conosciuto te che volevo vedere Eris Red di David Lynch bisognava prenotarsi alla Sormani andare lì e pregare in Dio connettersi su sto cosa che sembrava guerre stellari e piccolo in un quadratino così tipo che devi dei film esoterici che aveva anche il suo lato romantico però dicevo che palle invece un giovane oggi ha tutta la cultura però dall'altro mi dico cazzo scusami ha tutta l'informazione nella cultura esatto è tutta questione di consapevolezza e di misurare poi è una questione di cioè se appunto uno deve essere un po' megalomane per dire mi sono andato a vedere dieci video su come si fa il cacio e pepe vado a lavorare vado a apro un ristorante guarda che invece sei una persona un po' più sì lo fanno è questo che dicevo prima c'è nel curriculum la gente dice io so fare questo e questo perché l'ho imparato su youtube però percentualmente secondo me su cento che guardano un video di youtube per imparare una cosa spiccia è uno che invece pensa di diventare un coso cioè sono uno a cento ma non è che secondo me non pensano di diventare l'esperto però cosa succede poi si approcciano magari al mondo del lavoro e hanno tutto il cento per cento dei vocaboli necessari per convincerti che sono dei fighi bravo bravo sì sì questa è accaduta come fare buona figura a un colloquio e poi ci sono dei format che ti spiegano come spaccare cioè anche noi è successo ma questi dicono disruptive devi dire sempre disruptive nel 2020 era thinking outside of the box no quella è un po' vecchia troppo vecchia non faccio mai colloqui di lavoro ma poi hai studiato su youtube sai tutto in teoria quello che si deve fare però poi quando arrivi alla pratica dici voi avete persone che vi danno una mano stagisti stagisti no perché noi no 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 perché non abbiamo dei ritmi di lavoro ragazzi che lavorano con noi ma noi non abbiamo uno studio fisico non l'abbiamo mai avuto per scelta quindi non siete liquidi nomadi imprenditori eravamo già avanti all'inizio e poi non è che si scatta tutti i giorni che hai bisogno di un assistente non abbiamo mai avuto quindi magari ne hai uno poi lavori la settimana dopo e quello lì non può quindi ne chiami un altro avete un network però di persone sì casa di produzioni così ma avete creato una squadra vostra che vi fidate o avete comunque una beh quando ti trovi bene con qualcuno è la tua prima scelta dal punto di vista degli assistenti sì poi a seconda del lavoro che devi fare ovviamente ma poi guarda noi un'altra cosa un'altra cosa che ci ha sempre contraddistinto è che noi abbiamo sempre avuto un agente che ci ha rappresentato perché non siamo capaci di venderci questo forse si era già capito dalle cose che abbiamo detto stasera voi siete dei veri artisti puri nel senso che no nel senso che veramente lo capisco questa cosa perché non e adesso scusami non sapete spiegare neanche il perché ve lo dico con mia massima stima il perché le vostre foto siano così pazzescamente le date per scontato non è normale fare quei ritratti lì cioè quei ritratti lì sfondano sono 3D pur essendo in 2D cioè non so come dire esce fuori il fantasma della persona esce fuori il carisma no no stessa registra però mi colpisce perché ho 45 anni quindi ho imparato un po' a conoscere alcuni esseri umani e ho notato che i veri artisti veri 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 puri non sanno spiegare il motivo e il mezzo e il metodo che hanno usato per ottenere quella roba non riesco neanche a capire forse ditemelo a volte vi sentite avete la sindrome dell'impostore secondo me è passata non lo so ma perché ci chiamano noi alla fine facciamo le foto ogni tanto vi capita ce l'ho anch'io no non capiamo infatti io quando prima mi avevi detto la gente interessa che vari due come voi che parlano delle cose che fanno durante i giorni io penso ma che cazzo non ne frega a chi vuole fare il fotografo di sapere se quando io mi alzo la mattina che porto la bambina che poi sono un family man cioè che porto le due bambine in giro a scuola che cazzo ne può fregare la gente beh questa cosa perché dici tu mi fa ridere perché mi ricordo un'intervista che io trovo meravigliosa ancora dell'istituto luce a Giacometti l'artista italiano secolo delle statuine di bronzo degli uomini eccetera eccetera che gli dicevano proprio questa roba qua e lui era un fabbro alla fine perché era un fabbro e dicevano ah cazzo signor Giacometti hanno portato le sue opere al moma al contento soddisfatto guarda io non lo so perché perché io le faccio io sono un figurativo mi piacerebbe vedere un essere umano vero mi vengono fuori quelle robe lì dice la metto di fianco e ne ricomincia un'altra perché deve assomigliare sempre di più a un uomo e non mi viene quella roba lì e mi faceva impazzire questa roba qui del proprio del non sense nel cercare una tua strada che soddisfi dentro di te e non capire che cosa ti succede intorno nelle persone come voi è interessante capire perché la fotografia proprio cioè cosa perché una volta che l'hai individuata cioè la vostra è una vera vocazione nel senso che non sapete neanche perché vi vengono bene così o avete capito che l'esperienza fa però è quasi inconscio non so come dire quasi un automatismo devo dire che per quanto mi riguarda forse di questa roba non ne abbiamo mai parlato però io avevo sicuramente questo ricordo da ragazzo di aver voglia di esprimermi sul bidimensionale e per me di indole fai conto che io sono nato e cresciuto con la famiglia Crepax per cui ero fatto elementare medie superiori a casa loro fondamentalmente e passavo le giornate a guardare Guido che disegnava Valentina eccetera eccetera per cui per me era una roba pazzesca e c'era Giacomo il mio compagno e nonché amicissimo a tuttora che mi diceva andiamo a giocare aspetta che guardo un attimo perché ero proprio affascinato e volevo diventare un disegnatore solamente che Giacomo a sei anni faceva a me dei ritratti come se così e io facevo la casina che sembrava imbecille e per me la fotografia è stata proprio il fatto di dire non sei capace a disegnare ma vuoi rappresentare qualcosa e quindi quella scorciatoia fai clic e al posto del disegno ti rimane l'immagine cosa succede dentro di voi quando fate queste fotografie o quando pensate all'atto creativo o alla programmazione cosa succede? beh guarda per me il pensare a un personaggio è sono curioso dimmi no vabbè è quello che ci succede di solito magari poi ognuno di noi si fa un film però è l'idea di avere davanti un film non una fotografia occhio un film su quello che poi deve fare però concettualmente è avere una rappresentazione di un essere umano e cercare di rappresentare la tua visione di quella persona cioè quello succede all'interno è la necessità comunque di cioè di fermarlo in un'immagine per me è quella roba lì ovviamente quello che è successo nel nostro mondo lavorativo è un po' diverso perché l'assurdità della cosa è che tu avevi un preconcetto di quella persona perché magari l'avevi visto in un film magari era il tuo idolo sportivo e per cui ti facevi un'idea che poi magari in presenza non coincideva ed è forse anche per questo che poi siamo arrivati finalmente che è il percorso massimo a iniziare a fotografare le persone normali perché comunque alla fine quello che ti interessa è l'essere umano cioè io e Max quando ci mettiamo davanti a un bicchiere dovevamo fare uno still life o dobbiamo fare una foto di lei cioè ci ammazziamo perché c'è per noi una rottura di coglioni perché non c'è interazione non c'è quell'empatia di cui hai bisogno nell'arrivare a dire cioè voglio rappresentarti in maniera bidimensionale siete antropologi mi interessa proprio l'essere umano beh guarda devo dire sì negli ultimi anni sì e non è la prima volta che ce lo sentiamo dire tra l'altro che effettivamente sì ma è la bellezza nel trovare comunque in ogni essere umano un lato comunque figo cioè no? ognuno ha delle caratteristiche e secondo me il fatto di non aver fatto moda proprio modelle cose del genere è per andare a cercare la caratteristica di ogni persona togliendo ma vi rompono mai le balle quelli che hanno fatto la foto dico no no scegliere un'altra voglia sempre ma anche perché innanzitutto la nostra fotografia è sempre stata caratterizzata dal fatto di di non voler intervenire prima abbiamo parlato di selfie proprio nel magari non so tra la pulizia della pelle piuttosto noi piacciono le robe vere poi è ovvio che se lavori con le riviste che magari c'è l'attrice poi gli devi mettere l'i-pass che le rende tutte belle è colpa su è colpa su è colpa su no colpa mia no era colpa di david moretti perché io tutto quella un sharp mask non gliela volevo dare per cui comunque da winter se nella testa doveva far arrivare tutto a far per cui già partiamo da da un desiderio nostro che è quello proprio del non so come dire del reale anzi scusami del del nostro vero perché in realtà poi di reale tutta la nostra fotografia sempre molto poco perlomeno fino a qualche tempo fa il fatto di aver iniziato con la pennellata questi effetti ste robe le atmosfere surreali poi quando è arrivata la post-polluzione che ci abbiamo dato dentro in un modo assurdo proprio per creare ulteriormente mondi nostri o come aveva detto lui prima cioè dei nostri film in realtà di reale c'è molto poco però del nostro reale però veri cioè non so come è un po' un controsenso lo dico ogni puntata lo dico ogni puntata quindi mi scuso con gli ascoltatori questo è un programma di vecchi alla fine i vecchi ripetono e c'è Werner Herzog c'è questo regista che ammiro tanto che si chiama Werner Herzog che lui dice ma no ma un artista non è mai nella vita deve ritrare la verità non è mai una mezza verità è una verità in mezzo quella dell'artista cioè è una verità a livello sublime sublime cioè più più in alto della verità se è più in alto più in basso io non te lo so dire sinceramente sicuramente è diverso perché passa da una tua visione quindi non è la realtà posso dire parlavo con una psicologa scusami l'altro giorno che mi ha fatto molta impressione che stavo parlando con lei e stavamo parlando di questa persona un amico comune tutto quanto e a un certo punto però gli dico magari però non è così gli ho detto e lei mi fa ma non mi interessa com'è lui veramente è la tua percezione di lui che a me interessa e mi fa capire cosa tu pensi di lui ed è quella roba lì nel senso che tutto viene filtrato attraverso il tuo io e in qualche modo tu gli dà l'interpretazione che passa attraverso il suo io che non necessariamente è la verità assoluta per voi è importante ancora di più perché secondo me quello è la chiave per poi avere uno stile cioè se non intercetti la tua visione farei una foto che è la stessa foto che farei io a Valentino Rossi però attraverso di te è il Valentino Rossi by Max & Douglas e allora è lì che assume il valore stavo per arrivare proprio a questo punto perché prima avete detto beh a noi sai lui diceva giustamente ma a me che gliene frega uno di vedere cosa faccio nella vita però alla fine vi piace fotografare rappresentare una parte della realtà delle persone però come ha detto la psicologa come ha detto Davide in realtà voi quando rappresentate una persona in realtà state rappresentando una parte di voi stessi in qualche modo certo quindi cioè è quasi forse un discorso introspettivo cioè attraverso lo sguardo quello che vero negli altri in realtà state raccontando proprio voi stessi potrebbe essere no no ecco è sicuramente così ecco è veramente al 100% bravo a me piace proprio rappresentare guarda la linea immaginaria che unisce il soggetto il tuo occhio attraverso la macchina fotografica e si incontrano esattamente sul piano pellico cioè quello è la fotografia è semplicemente l'incontro tra il tuo occhio e la sua visione e quello che lui è la realtà no e si ferma nel momento in cui che decidi concretamente di scattare ancora dopo poi di sceglierli e quindi alla fine quest'opera d'arte che è la fotografia rappresenta la comunione tra due persone un po' è l'altra persona un po' sei tu certo ed è un blur di queste due cose assolutamente si è molto spirituale quindi tornando a quello che ci hai chiesto prima che poi tutto era partito dal discorso mio che poi è passato a lui e a lui sul fatto di questi se si piacciono nelle nostre cose quando siamo sul set quasi mai poi sai quante volte ah perché voglio le fate vedere subito capita sì sai quante volte è capitato che magari poi vai a vedere e le ritrovi come fotoprofilo ah certo dopo un po' sui social devono maturare un pochino devono sì devono maturare e non si piacciono per forza perché loro vedono nella foto c'è qualcosa innanzitutto di vostro e poi c'è un modo di vedere che loro non si vedono così non sono abituati questa è la gran realtà perché chi si fa fotografare normalmente cioè anzi chi si vede allo specchio tende secondo la nostra teoria no a guardare solo le cose che gli piacciono ed escludere invece tutte quelle che non gli piacciono e nel momento in cui invece tu hai una stampa davanti Zocane vedi che tutte le cose che avevi escluso in realtà sono l'idea però dopo nell'accettazione in qualche modo come diceva Max riconosci che in realtà sei tu no con i tuoi difetti è curativa che secondo me non è tanto curativa potrebbe essere un nuovo modo di venderci fotografia curativa in realtà io lavoravo con Cristina Nugnez lei vende l'autoritratto come terapia ecco vedi bello in effetti poi siamo diventati molto amici perché per me è stato così io ci vedo i soldi parliamo è nato tutto da lì per me l'amore per la fotografia perché mi ha fatto stare meglio a fotografarmi no no ma infatti è così ma un po' è così io devo dire che secondo me rispetto a quelli che poi pubblicano le nostre immagini sui social come fotoprofile e tutto quanto hanno comunque un'accettazione di se stessi che è alta perché gli altri quelli che non non ce l'hanno secondo me non riescono a superare quella parte di di incontro in cui se non sei in qualche modo artefatto e non ti vedi non lo farai mai però poi è per pochi non per tutti è per pochi la fotografia curativa c'ho già attenzione lavoriamoci perché alla faccia della fivolezza delle foto di instagram siamo finiti in un campo terapeutico esatto no ma io l'ho visto quest'anno ho fotografato sì ho fotografato ragazze che già si fotografano ci hanno un sacco di follower ma ho fotografato privatamente non ho pubblicato poi nulla ragazze anche nude fotografate che non ci sarebbero mai sognate di farsi fotografare e poi dopo loro mi ringraziano adesso perché gli ho aperto un mondo le ho fatto capire che imperfezioni contano fino a un certo punto poi devi imparare o contano tantissimo esatto devi imparare a conviverci ma infatti il problema tuo da formatore finanziario sta tutto in qua non devi pagare la modella per fare il foto sei tu che devi essere pagato adesso non pago più nessuno infatti no però infatti la curiosità sta nel fatto ma glielo chiedi tu o si propongono loro eh dunque no no allora finora glielo ho chiesto sempre io però iniziano a chiedere è ok no ma questo lo dicevo semplicemente per il fatto che già è una lusinga secondo me nel momento in cui tu chiedi a una persona di fotografarsi e già quello per una ragazza secondo me è molto importante da un lato immagino di sì eh no ma è la verità quello che hai detto adesso è sessista no vale anche per noi no non è è uguale nel senso che è un po' il richiamare il proprio ego no e poi nel momento in cui gli fai vedere anche delle belle foto cioè gli hai dato un cazzo una botta di autostima della madonna quindi perché non fotografi uomini perché non mi interessa è qui no qui il discorso è lungo e vi posso dare una risposta è lungo ma ci vogliono ci vogliono 15 minuti per dare questa risposta e comprimi in due è una storia di instagram è quattro storie secondo me secondo me secondo me a me piace fotografare perché si crea una connessione tra il lizard brain e la corteccia prefrontale di chi? la mia tua il lizard brain è quello che vede un qualcosa e dice se me la devo mangiare se me la devo trombare o se devo scappare perché mi mangia ed è quindi quello degli istinti bassi è quello che ti fa dire se tu vuoi stare in presenza di un qualcuno di una donna certo poi c'è la corteccia prefrontale che invece è dove stanno tutte le cose che ci rendono umani no? la filosofia l'arte i ragionamenti complessi io metto d'accordo queste due parti dico ok qui c'è un qualcosa davanti a me che a me piace mi piace guardarlo se fossi un animale salteria addosso ma non lo sono qui c'è un'altra parte del cervello che dice stai calmo lizard brain oggi siamo qui per fare qualcosa di diverso per creare qualcosa di molto più elevato siamo qui al servizio di questa persona con l'uomo non succede perché lizard brain dice devi scappare con l'uomo non me ne può fregare di meno di fotografare e penso che questa onestà ci voglia assolutamente non è che dobbiamo essere per forza tutti tra l'altro lui fa una cosa che abbiamo visto che sono le foto in 3D che dopo guarderete dopo ve le faccio vedere dopo ve le faccio vedere con l'oculus siamo anche adesso adesso ci vuole l'oculus ma poi non lo vedono l'oculus ce l'ho esatto poi non lo vedono avete mai sperimentato sono molto curioso io no no sperimentato no scusami senza di me aia scusate pensavo mi chiedessi se avevo mai provato la visualizzazione e l'esperienza la visualizzazione si ma non le avete mai fatte no realizzate però voglio vedere se avete visto le 3D come le mie che sono no io devo dirti la verità non l'ho mai visto c'è anche un video speciale ma dai io l'unica cosa sul 3D avevamo visto una cosa anche scusa ma video non foto no 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 avevamo visto anche una cosa a foto a Palazzo Reale mi sembra ah sì hai ragione vabbè era un'installazione della madonna capito vabbè ma era un disegno non era neanche una foto era questo un mondo di questo qua era un disegno è come veniva veicolata la terza dimensione perché io mi immagino se io volessi fare una mostra una cosa e foto con me ah ok quindi c'erano tanti oculus no in quel caso era solo un grande quadro per cui ti mettevi quello e guardavi il quadro ah ok anzi erano due forse però sì ah vabbè quindi niente di che cioè alla fine no vabbè ma può essere interessante no nel senso che hai un stillato curiosità no pensavo che avessero fatto un qualcosa per cui tu puoi guardare queste immagini in 3D senza daverti mettere niente addosso ok però sono molto curioso bene ma fotograficamente c'è una tecnica particolare per farle? devi scattare due foto la foto dell'occhio sinistro e la foto dell'occhio destro ah e vabbè come facevano una volta sì no ma infatti è una tecnica vecchissima solo che poi dopo cioè non si è mai diffusa più di tanto perché poi come gliele fai vedere queste foto alla gente ti devi mettere questo visorino così vabbè una volta si mettevano gli occhiali con le due immagini una adesso esatto secondo me con i set di realtà virtuale moderni iniziamo ad avere una risoluzione una qualità tale per cui secondo me inizia a diventare di nuovo interessante ma parliamo di business ce l'ha un futuro guarda il cinema ci ha insegnato di no infatti non lo so ve le farò vedere e me lo dite voi nel futuro c'è qualcuno è disposto a pagare per queste foto 3D qualcuno sì perché esistono già lui c'ha Patreon lo conoscete vabbè però io ho mille follower su Instagram quindi ce ne ho pochissimi però qualcuno che mi paga c'è lui ha questa cosa Patreon qualcuno poi è chiaro che vendere foto di donne nude è forse le foto più facili da vendere su internet di tutti anche per raccimolare i follower esatto e ciò nonostante si fa una fatica a bestia la raccimolare i follower ne ho mille due quindi non lo so il futuro economico non lo so fino a che punto però però è interessante oggettivamente un ritratto tridimensionale ambientato sì secondo me il problema è farlo cioè far diventare la fruizione immediata perché è comunque ancora macchinoso dovremo arrivare al punto che questi occhiali 3D diventano leggeri come questi te li metti oppure ce li hai sempre addosso secondo me diventerà fruibile c'è già stanno già facendo questa tecnologia quando nella lente a contatto avrà il microchip e allora cioè non devi avere l'occhiale queste robe qua ce l'hai tutto il giorno la realtà aumentata ci vuole ancora qualche anno 50 anni 20 anni però insomma del 3D ormai è un po' di anni che c'è anche sul cinema voglio dire sì ma la fruizione però esatto non è la creazione sì però tra virgolette il cinema questa roba la sdoganata nel senso che io entro mi metto gli occhiali e per un'ora e mezza non è che devo impazzire cioè sto lì e guardo quindi devo capire se la sdoganata ma l'ha anche già accanto sì esatto che alla fine forse il valore aggiunto non è tale no certo il valore aggiunto deve stare nella storia nel racconto che deve averci un senso il fatto che io ti sto dando la terza dimensione è un 3D diverso è raro che ci sia è raro che ci sia c'è un 3D diverso quello degli occhialini scarsissimi del cinema e il 3D con l'Oculus è molto più avvolgente no io devo dire la verità c'erano i nostri amici a uno studio qua a Milano che ci avevano portato su un'esperienza virtuale in piedi per cui anche in movimento con l'Oculus ed era veramente impressionante perché stare cazzo quella casa che guardi giù e ti vengono le vertigini o c'è il coso al cinema no no certo però porca miseria sì sì no chiaro lì però esuliamo dalla fotografia perché quello è un ambiente con segra di libertà esatto però è l'idea di una fotografia fatta in un certo modo dove tu magari ti immagini il personaggio e se tu hai anche il movimento con l'Oculus e gli puoi anche semplicemente girare intorno diventa interessante quella roba lì io nelle mie hai detto una scultura no ma nelle mie no perché nella mia cosa mentale che è una roba pazzesca è l'idea di mettere per esempio un film in realtà 3D no è l'idea che tu ci puoi andare in mezzo per cui vai a vedere di fianco uno che recita oppure ti giri e guardi l'altro che recita forse i videogiochi sono così sì infatti allora è il fatto però qual è cioè secondo me una persona quando va a vedere un film tendenzialmente passivo esatto è un'esperienza passiva c'è qualcuno che al posto mio ha curato la scelta delle inquadrature eccetera eccetera se tu me lo chiedi a me allora voglio un videogioco no sì ma guarda che se tu pensi a questa trasmissione pensando che ci fosse De Niro al passino eccetera eccetera io ho possibilità di girare intorno e fermarmi stai dicendo che sarebbe meglio di noi no sto dicendo che l'interazione sono d'accordo che è l'interazione fisica no cioè io posso guardare una scena di un film e vado a vedere dietro l'angolo se c'è qualcuno no la cosa assurda mentre parlavi sai qual è che stavo pensando ai videogiochi e la butto lì cioè talmente poco di successo sta roba che siamo arrivati a Twitch che la rende bidimensionale ciò che è tridimensionale esatto i videogiochi sono 3D però la gente non gioca ai videogiochi guarda quello che guarda ai videogiochi gioca ai videogiochi perché si vede che abbiamo bisogno di essere però quello è per capire i trucchi perché i ragazzini guardano per capire i trucchi Tommaso guarda è super top per capire come passare il livello dei giochi che stanno training ma in realtà non è solo quello è perché quest'anno sarà che ci sono stati lockdown niente da fare mi sono messo anch'io a guardare walkthrough dei videogiochi alcuni videogiochi sono estremamente cinematici e tu stai lì ti sembra di guardare un film però appunto è un film che ha creato qualcun altro cioè tu lo subisci passivamente Max Douglas ultima cosa oggi è caduto il governo volevo fare una chiusa su questo vi hanno mai proposto di fotografare dei politici ma proprio seguendoli perché leggevo l'altro giorno non so dove sui social probabilmente e c'era una ah si fosse era i main jane l'influencer che diceva guardate la differenza tra le foto di Obama adesso Obama da un po' che non c'è più però e le foto di Conte cioè Conte vedi le foto e lui in scrivania che guarda il computer ed è impostatissimo dietro c'è il ritratto del presidente faccia contrita e c'è Obama si vedeva che giocava a basket oppure che tirava la pacca sul sedere a sua moglie alla Casa Bianca però c'era anche un signor fotografo che lo seguiva che ha fatto anche un libro credo un documentario di tutto si è vero hanno un'impostazione differente cioè in America il business del racconto ma storicamente c'è sempre il fotografo Pete Sousa spacca i culi qua non ci sono cioè Conte secondo me non c'era il fotografo che lo segue c'è Rocco Casanino basta noi abbiamo la fortuna che gli fa da comunicatore abbiamo avuto la fortuna di andare a casa del politico per eccellenza Silvio Andreotti Andreotti no ti vedo indietro di Giulio di Giulione Andreotti in effetti Berlusconi è l'antipolitico sono state esperienze spot ma tra l'altro poche a casa Roma fotografato sì sì abbiamo beh lui stava abbastanza fermo e beh cazzo quando l'ho fotografato no no però trovare un'espressione nel voto di Andreotti ciao è stato più un lavoro di forse di costruzione dell'inquadratura però io mi ricordo la foto sinceramente non mi frega il cazzo a me mi interessava che eravamo ti ricordi la governante che ci ha fatto sedere sul suo divano ti giravi e c'era tipo la sua foto con i presidenti d'America e come l'avete poi quando l'avete rivista nel film di Sorrentino come l'avete visto no sì ma devo dire posso dire adesso non si vede però abbiamo fatto una foto pazzesca di Andreotti per culo perché non era minimamente pensato questo ti dà sei un buavo cinefilo se non vedi i film di Sorrentino complimenti non verrà mai ospite no va bene però poi alla fine è uscita una foto comunque figa di Andreotti perché ce l'abbiamo sul tavolo con le manone in primo piano c'era il tempo di mani pulite no no ma per caso però devo dire che ha avuto un significato l'espresso per l'espresso l'avevamo fotografato però è l'opposto di quello che invece adesso è richiesto ai politici cioè non la foto in posa eravamo totalmente liberi ah ok ah ok sì sì totalmente liberi cioè quando devo dirti la verità l'unico che forse ci ha provato a impostarci un pochino è stato Armani che ha tutto addirittura togli anche un pochino con quello che stava dietro di noi a fargli segni ok ebbè lui è un maniaco del dettaglio del controllo sì sì a parte quell'esperienza tutto il resto super liberissimo Max e Douglas grazie grazie a voi è stato un viaggio non so una suite psichedelica e non finisce qui perché adesso gli facciamo vedere le mie foto grande non vedo l'ora seguiteci su Instagram seguiteci su Instagram stage di questa puntata grazie ragazzi ci vediamo a Como noi nei boschi andiamo a bere qualcosa a rifugio se passate dai navigli io ci so quando si potrà quando si potrà avremmo anche preso questo loft anche per goderci un po' della movida notturna milanese ma da quando l'abbiamo preso non c'è più un gazo e questo è il bazzaro atomico ciao grazie grazie ciao a tutti